Buongiorno, accomodiamoci. Allora, ci siamo sistemati? Bene, l'imputato Matteo Messina Denaro è detenuto assente per rinunce. Sì, buongiorno. Mi confermate la rinuncia? Sì, comunico la rinuncia, si è stata inviata il 23 maggio nella quale ha rinunciato a presenziare all'udienza. Benissimo. Quindi è detenuto assente per rinuncia, possiamo anche chiudere il collegamento con la casa circondariale dell'Aquila. È difeso di ufficio dall'avvocata Adriana Vella che è presente. Le chiama lei le parti civili, grazie. Sì, sì, è presente, le chiamo io. Allora, le parti civili difese dall'avvocato Giuseppe Crescimanno, che mi pare assente, dovrebbe essere sostituito. Sì, dall'avvocato Roberto Avellone. Benissimo. Le parti non c'è nessuno, mi pare, delle parti civili però in pro. Per parti civili di difesa l'avvocato Vincenzo Greco è presente, le parti sono tutti assenti, avvocato. Benissimo. Avvocato Fabio Repici per un rassolino. No, questo lo possiamo eliminare perché non ha concluso in primo grado, quindi è inutile che lo chiamiamo. Non lo chiamiamo proprio, allora benissimo. Parti civili di difesa all'avvocato Gabriele Vancheri, è assente l'avvocato Vancheri. Per le parti mi pare che non c'è problema, le parti non c'è nessuno. Avvocato Fausto Maria Amato, è pure assente. Non è presente Brizio Mondinaro, mi pare che non è presente. Avvocato Maria Luisa Martorana, è assente. Brizia Donata Mondinaro, è pure assente. Avvocato Michela Soldo, è assente. Maria Montinaro, non pare che nessuno. Parti civili di assicita all'avvocato Roberto Avellone, è presente, le parti sono tutti assenti. Sono tutte assenti, sì. Benissimo. Parti civili di difesa all'avvocato Felice Centineo Cavarretta Mazzoleni, è assente. Anche questi assenti, sostituisco il collega. Tutte le parti pure assenti. L'avvocato è sostituito per delegorale dall'avvocato Avellone. Sì, 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 l'avevo già. Benissimo. L'avvocato Avellone, sì. Parti civili di difesa all'avvocato Fabrizio Genco, che è assente, sostituito dall'avvocato Greco, mi pare. Sì, l'avvocato Greco, le parti sono assenti, è vero avvocato, me lo confermo. Avvocato Giuseppe Ferro, è assente, sostituito sempre l'avvocato Greco? Sì. Benissimo. Sempre lei che sostituisce. Benissimo, le parti sono assenti. Avvocato Mariana Abramati, è assente, sostituita? Sì, sempre io, avvocato Greco, le parti sono assenti. Benissimo. Poi le parti civili assistite all'avvocatura distrattuale dello Stato di Caltanissetta, presenta l'avvocato Giuseppe Laspina, mi pare di vedere. Sì, buongiorno. E se, Presidente, se possiamo dare atto della presenza ai fini della pratica forense, della dottoressa Roberta Fonte. Grazie. Le parti sono assenti. Avvocato Ettero Barcellona, è assente. Avvocato Francesco Vasile, pure assente. Avvocato Giuseppe Gandolfo, è assente. Avvocato Francesco Cutraro, è assente pure. Benissimo. Il procedimento avviene per l'intervento del difensore dell'imputato. Avvocato Vella, quando vuole, prego. Buongiorno, eccellentissimo Presidente. illustrissimo Consigliere Alatere, illustrissimi giudici popolari, procuratore generale, illustrissimi difensori delle parti civili, carissime persone offese di questo procedimento. non potreste capire quanto sono emozionata e i motivi di questa mia emozione. La mia emozione nasce dalla consapevolezza che la designazione come casuale, come difensore di ufficio, mi ha dato comunque la possibilità, l'opportunità di intervenire in questo procedimento, che inevitabilmente entrerà nella storia del nostro paese, perché parla di fatti che hanno segnato la storia del nostro paese. nasce dalla consapevolezza che ho acquisito in quest'ultimo mese, che la designazione come difensore di ufficio casuale fa di me comunque la massima espressione della tutela del diritto di difesa che lo Stato garantisce a tutti, indifferentemente a chi è incensurato, a chi ha un casellario giudiziale ben nutrito. In questo processo avete già ascoltato la richiesta di conferma della sentenza impugnata del Procuratore Generale. Oggi ci sarà la mia richiesta di assoluzione dell'imputato. Dopo di me, sappiate inevitabilmente, dovrete ascoltare e sentirete la voce della comunità che vi chiede di inserire l'imputato che per tanti anni non si è presentato, non ha risposto all'appello, di inserire nella lista assai lunga di quei soggetti che sono già stati ritenuti responsabili con sentenza passata giù di ingiudicato e responsabili di questi fatti di sangue tragici. Quindi io in ogni caso credo, credo fermamente, che Codesta, eccellentissima Corte, che ha comunque la fortuna di essere guidata da un magistrato di eccellenza, sappia giudicare con imparzialità l'imputato sulla scorta unicamente dei dati che sono stati acquisiti nel giudizio di primo grado, sappia leggere i motivi di appello sgombrandolo dal nome dell'imputato e sappia, sempre con la medesima imparzialità, ascoltare le mie riflessioni. Il signor Procuratore Generale vi ha già detto, mi rivolgo in particolare ai signori giudici popolari, quanto sia importante muovere dal capo di imputazione. Condivido, anche a me è stato insegnato così. Nel capo di imputazione troviamo la condotta di cui l'imputato è chiamato a rispondere, dovrete voi valutare gli atti processuali e dirmi se quegli atti sono sufficienti o meno a ritenere responsabile l'imputato della condotta che ritroverete nel capo di imputazione. Cosa si ritrova nel capo di imputazione? Ed è un aspetto che già vi ha evidenziato il signor Procuratore Generale, che il signor Messina Denaro è chiamato a rispondere di tutte le condotte che sono descritte nel capo di imputazione in qualità di reggente. Il signor Procuratore Generale già vi ha spiegato chi è il reggente. Il reggente è il sostituto del capo. Abbiamo i capi provincia, abbiamo i capi mandamento. Ci possono essere situazioni particolari in cui il capo ha necessità di essere sostituito da qualcuno. Poi leggo nel capo di imputazione partecipava a ideare e approvare un programma criminale ed è questo il problema perché in realtà il signor Mattia Messina Denaro non risponderebbe specificatamente del delitto che si ritrova nel capo A, nel capo B ma sulla scorta di tutta una serie di giurisprudenza che è maturata nell'ambito di questi procedimenti dei processi che si sono svolti prima di questo il signor Mattia Messina Denaro deve valutarsi la condotta del signor Mattia Messina Denaro rispetto all'adesione al cosiddetto piano stragista cioè se il signor si deve valutare se il signor Mattia Messina Denaro investe di reggente abbia o meno aderito al piano stragista. Quindi il signor Procuratore Generale nel corso della sua requisitoria ha parlato diciamo di questo aspetto su cui si è discusso tanto nel corso del giudizio in primo grado le prove devono le richieste nell'istruttoria doveva aiutare i giudici a capire se nel momento in cui è stato deliberato il piano stragista attenzione da parte della commissione regionale il signor Mattia Messina Denaro rivestisse la qualità il ruolo di vertice della provincia di Trapani e in particolare il ruolo di sostituto del padre Messina Denaro Francesco e quindi in tale vesta avrebbe aderito a questo piano strategico approvato dalla commissione regionale la corte d'assise naturalmente conferma questo diciamo questo questo suo la tese accusatoria cioè nel senso che Mattia Messina Denaro al momento della deliberazione di questo piano stragista era vertice era sostituto del padre sostituto del padre per una presunta malattia del padre che avrebbe reso necessaria questa sostituzione e la corte d'assise ci dice che è ben certa di questa circostanza sulla scorta di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e del contenuto di sentenze che sono state prodotte acquisite nel corso di giudizio di primo grado ma ben vedere in realtà questa affermazione da parte della corte ritengo che sia una forzatura di quanto è ricavabile dalle predette dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dal contenuto di queste sentenze mi preme porre alla vostra attenzione una sentenza che da me sarà più volte citata nel corso della discussione una sentenza che io ritengo sia il manuale del piano stragista nel corso del mio studio di questo processo sappiate che mi sono sempre confrontata col contenuto di questa sentenza ed è la sentenza della corte assisa appello di catania i giudici la corte assisa di appello di catania è giudice del rinvio a seguito dell'annullamento delle sentenze che sono state che erano state emesse nell'ambito del processo capaci e del borsellino terra la corte d'assisa appello di catania sulla scorta di numerosi collaboratori di giustizia individua un soggetto che voi il cui nome ritroverete nel capo imputazione che è Agate Mariano il soggetto di cui vi ha parlato tanto anche il procuratore generale Agate Mariano è un soggetto di caratura mafiosa di spessore all'interno della provincia di Trapani un soggetto che ha un ruolo preeminente all'interno della provincia di Trapani un soggetto molto legato a Rina la corte d'assisa ed appello di catania individua questo signore Agate Mariano come mandante della strage di capaci ora signori giudici popolari se un soggetto è mandante di una strage lo è perché o è capo provincia o è sostituto del capo provincia quindi devo ritenere errate le conclusioni su cui è pervenuta la corte d'assise nella sentenza impugnata che afferma dopo l'assoluzione in primo grado i giudici di appello del processo capaci consci della non linearità del materiale probatorio acquisito bypassarono il problema della prova sulla qualità di rappresentante provinciale dell'imputato affermando la responsabilità penale dell'agate quale mandante della strage del 23 maggio 1992 prescindendone è un'affermazione della corte che ritroverete a pagina 502 in realtà questa affermazione della corte è smentita dal contenuto della sentenza capaci della sentenza di appello del processo capaci perché i giudici del processo capaci in realtà affrontarono la questione e in questa sentenza si afferma tale situazione aveva certamente favorito l'accrescersi del potere legate qual è la situazione? la presunta malattia e la vecchiaia del padre di Mattea Messina Denaro Francesco Messina Denaro che agli occhi del reina meglio del giovane Mattea Messina Denaro poteva assicurare la gestione della provincia trapanese indirizzando iniziative e attività del figlio di Francesco Messina Denaro evidente che la corte non ha tralasciato il problema della qualità di rappresentante provinciale individua del Mattea Messina Denaro un soggetto con una posizione di subvalenza rispetto ad Agate Mariano che comunque ha un ruolo di supromezia sia anche in ragione dell'età e sempre per lo stretto legame che ha Corrina poi la corte la corte d'assisa una sentenza impugnata ci vorrebbe far credere attraverso il richiamo di un passaggio sempre della sentenza la corte d'assisa d'appello del processo Capaci che si sarebbe realizzata una posizione di correggenza e ci dice del resto richiamando la sentenza della corte di appello del resto in seno l'organizzazione la contitualità e la pari ordinazione del ruolo di comando è una situazione già conosciuta basta pensare a direzione del mandamento di Brancaccio affidata ai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano a quello di Corleone attribuita a Salvatore Rina e Bernardo Provenzano a quello dei guadagni a Santa Maria del Gesù assegnato a Carlo Greco e Pietro Agliero ora queste ipotesi o comunque queste situazioni di correggenza che la corte ci richiama ma sono tutte situazioni di correggenza che noi conosciamo con certezza perché i collaboratori di giustizia hanno avuto la delicatezza di indicarcele ne conosciamo perché ne vifisco loro nella provincia di Trapani sempre grazie ai collaboratori conosciamo anche la correggenza di Sinacori e Mangiaracina che per il mandamento di Mazzara del Vallo dopo dopo Agate Mariano mai non ci sono collaboratori che ci parlano di correggenza di Agate Mariano e di Matteo Messino a denaro ma c'è un episodio che smentisce l'assunto della della sentenza impugnata un episodio particolare che si inserisce all'interno della faida di Alcamo che è un episodio che è avvenuto nel maggio del 1991 ed è un episodio in cui è l'episodio in cui è brusca impegnato per volere direina in questa guerra contro il clan greco in un'attività di monitoraggio di appartenenti alla ricerca di questi soggetti del clan greco si sarebbe imbattuto nella squadra mobile di Trapani insieme a Paolo Milazzo Paolo Milazzo è il fratello di Vincenzo Milazzo capo mandamento di capo mandamento di Alcamo e in questo diciamo in questa occasione muore Paolo Milazzo muore il fratello del capo mandamento di Alcamo quindi Brusca si determina a ricercare aiuto per fronteggiare il clan greco chiede aiuto quindi da Alcamo passa da Castelvetrano e va a Mazzara del Vallo a Mazzara del Vallo capo mandamento e a Gate Mariano quindi perché vi racconto di questo fatto perché non si può logicamente sostenere che Brusca che conduce a una guerra va a chiedere aiuto a un sottordinato rispetto al capo provincia o al reggente che si trova a Castelvetrano quindi da questo comportamento di Brusca trova la sua logica spiegazione solo nel fatto che a Gate Mariano e non Matteo Messina a denaro era il vertice della famiglia cioè della provincia di Trapani a computazione ulteriore delle argomentazioni assunte dalla Corte vi è il contenuto di una sentenza anche lei importante la sentenza resa nel processo Omega e il contenuto di questa sentenza contrasta con quanto invece affermato dalla nostra che attribuisce rilievo alle dichiarazioni di Brusca e Sinacori sapete comunque che i collaboratori Brusca e Sinacori sono i collaboratori che più riferiscono in questo procedimento quindi i collaboratori su cui la Corte attribuisce particolare rilievo e cosa ci dicono Brusca e Sinacori che addirittura la sostituzione del padre Francesco Messina Denaro per questa presunta malattia è da collocarsi a partire dalla guerra di Partanna che si colloca a fine degli anni Ottanta ora in riferimento alla guerra di Partanna viene la sentenza Omega e la sentenza Omega che cosa ci dice ci dice che l'imputato Matteo Messina Denaro è unicamente condannato per l'omicidio piazza Sciacca che si colloca all'interno di questa di questa guerra unicamente come esecutore invece il padre condannato come mandante e come esecutore questa circostanza è confermata da Patti Patti un altro collaboratore che viene escusso all'udienza del 6 aprile 2019 proprio nel corso del giudizio di primo grado cosa riferisce Patti che è stato arruolato dal padre Francesco Messina Denaro e che il padre partecipava materialmente all'esecuzione degli omicidi io ritengo che sia più facile deliberare che partecipare a un omicidio come si può sostenere che un soggetto che partecipa a un omicidio sia malato quindi Patti ci riferisce del ruolo preeminente che in quel momento rispetto al figlio aveva il ruolo attivo del padre rispetto al figlio e che comunque una questa malattia di cui parlano i collaboratori sicuramente non ha determinato una sostituzione in quel momento come la corte d'assise ci vorrebbe far credere sembra smentire la reggenza dell'imputato della provincia di Trapani c'è un'altra sentenza la sentenza del 17 maggio 2001 che è resa nel processo Halloween questa sentenza a Chiarelettere ci dice che capo provincia è Francesco Messina Denaro sostituto è Agate Mariano quindi nessun ruolo di vertice viene attribuito agli imputato un'altra sentenza un'altra sentenza indicata dalla corte e utilizzata dalla corte per sostenere quanto dalla stessa formata ovvero che Matteo Messina Denaro al momento della deliberazione del piano stragista rivestisse il ruolo di vertice a smentire tutto ciò in realtà penso continuamente a quanto ritenuto la corte è questa sentenza sentenza vana del 6 luglio 1905 la corte indica vi richiama questa sentenza facciamo perché questa sentenza è fondata su un tutta una serie di intercettazioni intercettazioni da cui si ricava il ruolo di mediatore che avrebbe assunto Matteo Messina Denaro nella guerra tra clan rivali nell'agrigentino ora in realtà dalla lettura di queste intercettazioni non si coglie alcun ruolo preminente del Matteo Messina Denaro si coglie che comunque il riferimento per questi soggetti per la provincia di Trapani è Francesco Messina Denaro il figlio un mero esecutore questo si può cogliere da una intercettazione riportata dalla corte d'assisa in sentenza che dove si legge la frase che sarebbe stata pronunciata da di Mino Accursio che per la corte dimostrerebbe il protagonista del protagonismo del Matteo Messina Denaro di Mino Accursio cosa dice Uzzuciccio a chi ha Matteo siccome la possibilità di girare compare lui in tutte le cose evidente è evidente evidente che la frase Uzzuciccio a chi ha non può avere altro significato che Uzzuciccio è Francesco Messina Denaro il riferimento di questi soggetti per la provincia ma c'è un altro dato importante a mio avviso che la corte fa finta che non esista ed è il dato temporale se vedete quando si collocano queste intercettazioni troverete il riscontro delle mie affermazioni queste intercettazioni si collocano tutte nella seconda fine anno 92 inizi del 1993 c'è un periodo assai successivo rispetto a quello in cui la corte di Assise colloca l'adozione l'approvazione definitiva del piano stragista da parte della commissione regionale che vi dico fin da ora per la corte ottobre del 91 ma in questo processo abbiamo una fortuna abbiamo la voce viva di Reina cioè il capo dei capi e faccio riferimento a quella intercettazione citata in sentenza di cui sono sicura che conoscete l'esistenza perché di questa intercettazione è molto parlato che è quella nell'intercettazione effettuata presso il carcere opera di un colloquio che sarebbe intercorso da Reina e un pregiudicato pugliese tale lo russo cosa dice il Reina il 30 agosto 2013 ora se ci fosse suo padre buonanima perché il padre era un bravo una brava persona una bella persona un ziciccio era di Castelvetrano devo dire la verità ha fatto tanti anni nel comandamento a Castelvetrano fino a che un giudice gli ha dato in carcere ma era una persona che aspetta questo qua questo figlio che lo dà a me per farne per farne quello che doveva fare è stato 4-5 anni con me andava bene la pala della luce la pala della luce in tutti i posti pala e luce ed è finita ed è finita ma che cosa si coglie dal contenuto testuale di questa intercettazione due elementi importanti che smentiscono Assunto e la Corte punto primo abbiamo il capo dei capi che tutte le sentenze ci descrivono come l'osservante rispettoso delle regole di Cosa Nostra che individua il Francesco Messina a denaro che per la Corte è capo prodigia semplicemente come capomandamento e inoltre da questa intercettazione si coglie un'aspra critica del Reina per le scelte strategiche dell'imputato che sono ben lontane da logiche stragiste quello di dedicarsi ai proventi derivanti dal mercato dell'eolico la Corte d'Assise poc'anzi vi ho detto attribuisce un rilevo particolare alle dichiarazioni di Sinancori Vincenzo per individuare l'imputato come reggente il Sinancori Vincenzo che viene sentita l'udienza del 3 aprile 2019 e quindi come avrebbe già fatto nel processo Omega Sinancori nel nostro processo nel processo di primo grado nel giudizio di primo grado conferma che la sostituzione sarebbe venuta già a partire dalla guerra di Partanna ma vi ho detto poc'anzi cosa succedeva a Partanna che il Francesco Messina Denaro non solo deliberava l'omicidio ma partecipava agli omicidi quindi già queste dichiarazioni del Sinancori sono smentite ribadisco dal contenuto della sentenza emessa nel processo Omega e ancora dalle prezze dichiarazioni emerge un dato che la Corte trascura perché il Sinancori cosa ci dice il 3 aprile 2019 ci dice che il padre è ufficialmente capo provincia sino alla sua morte morte che avviene nell'anno 1198 quindi smendendo anche se stesso in ordine a questa sostituzione ma ancora più importante un'affermazione fatta dal Sinacori che avrebbe riguardato solo il mandamento perché cosa dice lui rimane ufficialmente rimane capo mandamento il capo provincia cioè Francesco Messina Denaro fino al giorno della sua morte però dopo un certo periodo che lui è stato un pochettino male le redini incomincia a prendere le matte e diventa ufficiosamente lui quello che gestisce il mandamento quindi se sostituzione vi è stata in base a queste dichiarazioni la sostituzione può essere avvenuta unicamente rispetto al mandamento non rispetto alla provincia però questa difesa non può omettere di essere trasparente con questa eccellentissima corte nel senso che sa che il Sinacori il pubblico ministero molto bravo si rese conto della risposta del Sinacori e fece una domanda suggestiva e andotto proprio il Sinacori risponde a fermiati anni il pubblico ministero chiede al collaboratore lui dice lui quello che gestisce il mandamento di Castelvetrano il pubblico ministero incalza il mandamento di Castelvetrano alla provincia e collaboratore sì è chiaro che la risposta di Sinacori non può ritenersi consapevole spontanea è risultato di un dato che è indotto da una sollecitazione esterna in questo caso fatta specificatamente dal pubblico ministero rispetto alla specifica questione della provincia ma il collaboratore si contraddice anche rispetto a un dato importante che è il momento storico in cui sarebbe avvenuta questa sostituzione perché da un lato ci dice che la sostituzione sarebbe avvenuta a partire dall'inizio della guerra di Partanna ma poi abbiamo un'altra occasione in cui ci dice colloca la sostituzione al momento della sua latità al momento in cui lui era latitante il Sinacori la latitanza che inizia l'1 aprile del 1993 e lui dice che avrebbe partecipato a delle riunioni ed ebbe venuto di incontrare l'imputato cioè Matteo nel corso della medesima e non il padre Francesco e questo si trova in delle dichiarazioni di Sinacori che sono state acquisite al processo sono state arrese in particolare nell'ambito del processo Capaci perché abbiamo il pubblico ministero la dottoressa Sabatino in quell'occasione chiede allora Matteo Messina a denaro lei aveva fatto un accenno prima dicendo che era il figlio di Francesco Messina a denaro rappresentante provinciale giusto Sinacori risponde sì la dottoressa Sabatino anche detto è sinacore rappresentante provinciale di Trapani e anche detto il rappresentante cioè Francesco Messina a denaro una certa età essendo malato di fatto svolgeva quelle funzioni il figlio Matteo e Sinacori sì dottoressa Sabatino può specificare meglio questa sua affermazione e cioè come le risulta se ha avuto in modo in più di un'occasione eventualmente la spieghi di vederlo all'opera in queste sue funzioni di rappresentante provinciale di fatto Sinacori risponde perché come le ho detto poco fa in qualche riunione che abbiamo fatto durante la mia latitanza cioè latitanza in 1993 era presente lui e non suo padre perché vi offro questo dato temporale perché non dovete mai dimenticare che la corte colloca la deliberazione da parte della commissione provinciale e della commissione regionale a ottobre del 91 nella nostra sentenza quindi da queste dichiarazioni si coglie che se sostituzione c'è stata è avvenuta in un periodo assai successivo rispetto all'ottobre del 91 addirittura stiamo parlando dell'anno 1993 per la corte di assise una sentenza impugnata le dichiarazioni di Sinacori trovano conferma in quelle di Brusca resa l'udienza il 12 dicembre del 2017 Brusca cosa ci dice anche lui che la sostituzione sarebbe avvenuta ad inizio della guerra di Partanna e in particolare ci fu un periodo che io poi non ho visto più a Francesco Messina a denaro secondo me penso questa è una mia puntini puntini è un po' unziano forse un po' malato quindi messo da parte Matteo vai vai un'investitura quasi in automatico lo ritrovate a pagina 236 della sentenza impugnata ora con riferimento a tali dichiarazioni devono evidenziarsi alcuni elementi che smentiscono quando sostenuto dal giudice primo grado come ho già detto evidenziato poc'anzi per le dichiarazioni di Brusca valgono le stesse conziazioni di Sinacori che colloca la sostituzione a partire dall'inizio della guerra di Partanna collocazione temporale che è smentita dalla corte di assise di appello della corte di assise di Trapani nel processo Omega e in questa sentenza invece si dà atto del protagonismo del padre rispetto al figlio poi non può sfuggirvi che Brusca poi essenzialmente parla di deduzioni mai di certezze dice secondo me penso questo è una mia un po' anziano forse un po' malato quindi nessuna certezza in merito ad una malattia talmente invalidante che abbia potuto rendere necessaria la sostituzione il passaggio di consegne da padre in figlio abbiamo ferro la corte salta le dichiarazioni di ferro perché perché il collaboratore il collaboratore riferisce che Riina quando gli conferì la carica di capomandamento di Alcamo e quindi quando quando muore Vincenzo Milazzo viene ucciso Vincenzo Milazzo e l'omicidio di Vincenzo Milazzo risale a luglio del 1992 quindi ferro dice quando Riina mi conferì il mandamento la carica di capomandamento gli disse che avrebbe avuto come diretto interlocutore Mattea Messina denaro ora è chiaro da queste dichiarazioni che l'imputato già la data di deliberazione del suddetto piano cioè le affermazioni della corte non si possono sostenere sulla scorta di queste dichiarazioni perché quando venne detto al Patti dal Rina deve necessariamente collocarsi dopo l'uccisione di Vincenzo Milazzo che è a luglio del 92 quindi anche qui siamo in un periodo assai successivo rispetto all'ottobre del 91 in cui sarebbe stato deliberato il piano stragista poi il ferro ci racconta di un episodio molto importante che smentisce sempre l'assunto della corte secondo cui la sostituzione è resa necessaria dalla malattia di Francesco Messina denaro perché il ferro racconta alla corte di primo grado che a settembre del 91 ci fu una riunione a settembre del 91 una riunione relativa alla spartizione di soldi che derivavano da un appalto vinto da un imprenditore di Alcamo ma era una spartizione di soldi che interessava l'intera provincia quindi Ferro ci parla di questa riunione Ferro interviene in sostituzione di Vincenzo Milazzo perché Vincenzo Milazzo era sottoposto agli arresti domiciliari in quel momento e quindi andò lui al posto di Vincenzo Milazzo e dice che l'imputato non non siede al tavolo della riunione non partecipa ai discorsi dei dei soggetti interessati diciamo alla questione ci dice Matteo Messina denaro rimane fuori a distanza dall'immobile in cui noi ci siamo riuniti al tavolo eravamo seduti io Francesco Messina Francesco Messina Francesco Messina denaro e Vincenzo Virga Vincenzo Virga è capo mandamento di Trapani Francesco Messina invece è capo mandamento di Marsala quindi cosa balza evidente da queste dichiarazioni che a settembre del 91 perché il ferro ci racconta che questa riunione sarebbe avvenuta a settembre del 91 sicuramente sostituzione non c'è stata abbiamo Francesco Messina denaro che partecipa personalmente ad una riunione oltretutto una riunione ordinaria stiamo parlando di spartizione di soldi di un appalto non stiamo parlando di cose importanti poi ci sono degli elementi che ritengo possono essere valutati da questa Corte per smentire quanto sostenuto dal giudice di primo grado abbiamo la famosa trasferta romana di cui parla tanto il procuratore generale nel corso della sua requisitoria trasferta romana che il giudice di primo la trasferta preliminare alla trasferta romana sarebbe una riunione anche di questo vi ho parlato tanto il procuratore generale è la riunione di Castelvetrano che la Corte colloca sembra d'ottobre del 1991 ci sono poi delle riunioni organizzative di questa trasferta romana che si collocano invece a fine gennaio inizi di febbraio ora tre riunioni che avvengono a casa di Biondino a casa di Biondino e in due di queste tre riunioni l'imputato è assente cioè il vertice su tre in due non è presente e oltretutto in momenti salienti della della preparazione non è presente alla riunione la famosa riunione di cui parla tanto la sentenza l'episodio in cui Reina chiese ad Agate Mariano di consegnare le chiavi dell'appartamento che era stato trovato da Agate Mariano come base logistica della trasferta romana a Vincenzo Sinacori poi vi spiegherò perché quindi non è presente a questa riunione non è presente alla riunione con i soggetti di Marano i soggetti di Marano sono dei soggetti che sarebbero diciamo chiamati a supporto della trasferta romana dei napoletani quindi non è presente è presente all'ultima riunione prima della partenza in questa riunione non è presente il capo dei capi il Reino c'è un altro aspetto che è importante evidenziare che ce l'offre quella sentenza di cui vi ho parlato poc'anzi che è la sentenza della Corte Assisi Appello di Catania che ci dice la Corte Assisi Appello di Catania è chiamata a individuare degli elementi per ritenere configurato il dolo di strage in capo ad Agate Mariano la Corte Assisi Appello di Catania ci dice sulla scorta dei collaboratori di giustizia che avviene qualcosa di particolare che Agate Mariano è uno di quei soggetti imputati del famoso maxiprocesso la ragione genetica del piano stragista è il maxiprocesso l'esito poi confermato negativo per Cosa Nostra la sentenza viene emessa il 30 gennaio la riunione di cui vi parlavo della consegna delle chiavi viene collocata dalla Corte d'Assisi Appello di Catania il 31 gennaio del 1992 la sentenza è emessa il 30 gennaio Agate Mariano viene arrestato viene confermata la sua responsabilità in ordine a Capaci viene arrestato quindi stiamo parlando di pochissimi giorni Cangemi ci dice che Rina si sarebbe preoccupato di trasmettere ad Agate Mariano l'informativa ovvero che si sarebbe dovuto uccidere il dottore Falcone a Capaci con modalità stragiste Cosa perché vi sottopongo la vostra attenzione quando ci riferisce Cangemi è un aspetto di cui vi ha parlato anche il procuratore generale abbiamo un soggetto che Agate Mariano che non vi deve sfuggire già ve lo vi faccio questa premessa un soggetto che partecipa alla riunione di Castelvetrano quindi preliminare alla trasferta romana quindi soggetto presente soggetto presente come vi dicevo poc'anzi alla riunione a una delle riunioni preparatorie del 31 gennaio viene arrestato Rina ha la preoccupazione di trasmettere un'informativa ad Agate Mariano appena portato in carcere come se non sapesse nulla nonostante secondo quanto sostenuto dalle corte abbiamo il Mattia Messina Denaro a portata di mano del Rina il signor procuratore generale nel corso della sua requisitoria vi dice il fatto in sé che Agate Mariano non dovete credere a tutto quello che c'è scritto nei motivi appello perché il fatto in sé che Agate Mariano è imputato nel maxiprocesso quindi già si prevede l'esito negativo del maxiprocesso quindi è un soggetto che libero resterà pochi giorni ha pervenina ha poca durata ma perché se così come ci dice il signor procuratore generale che in realtà non è così perché la necessità di trasmettere ad un soggetto detenuto e quindi maggiore difficoltà di trasmettere l'informativa questa necessità necessariamente deve trovare la sua logica nel fatto che Agate Mariano è al vertice della provincia di Trapani poi anche questo fatto che vi ho evidenziato l'assenza dell'imputato nei momenti più salienti della fase preparatoria della trasferta romana di cui vi ha tanto parlato il procuratore generale che addirittura individuata come dalla corte il primo atto di la prima manifestazione del piano stragista l'assenza dell'imputato in queste riunioni importanti cioè si può appropriare questa trasferta romana così talmente importante per la corte è invece indicativa del fatto quindi che il soggetto non fosse collocabile al vertice rivestiva una posizione similare a quella di Sinacori che invece è presente in tutte le tre riunioni un soldato un soldato un soldato che come ci dice Vincenzo Sinacori ricevono soldati che ricevono ordini impartiti da Rina quindi anche la sentenza e la corte assisa appello di Catania che riferisce poi a supporto della condanna di Agate Mariano indica questo fatto raccontato da Cangemi può sostenere quanto vi sto dicendo in ordine al fatto che non può individuarsi Matteo Messina Denaro come reggente in quel momento ma poi con riguardo alla malattia del padre malattia del padre anche rispetto a questa malattia vediamo che non possiamo sulla scorta di dichiarazione di collaboratori tenerla talmente invalidante da rendere necessaria una sostituzione e ce lo dice il collaboratore che più di tutti può riferire della malattia del padre perché sarebbe stato l'unico a cui in forza di un rapporto di sincera amicizia che esistevano tra i due ed è Geraci Francesco di cui vi ha parlato anche tanto il procuratore generale avrebbe ricevuto questa confidenza dal Matteo Messina Denaro se leggete le dichiarazioni che hanno che ha reso il collaboratore di giustizia all'udienza del 3 aprile del 2019 nel corso di giudizio di primo grado non si coglie una malattia aspetti che possono far ritenere che questa malattia sia talmente invalidante e vi riporto il passaggio il difensore chiede e lo ricorda se lo avete accompagnato in situazioni particolari Francesco Messina Denaro intendo dire riunioni e Geraci dice no non mi ricordo che l'abbiamo accompagnato solo in ospedale al policlinico di Palermo ma questo signor Messina Denaro usciva a camminare tranquillamente era su una barella stava male però camminava non dico era in salute cioè camminava faceva tutto quello che doveva fare la difesa Geraci io non ci sto non ci stavo 24 ore al giorno quando ci andavo lo vedevo la difesa ho capito però dico saliva sulla macchina Geraci sì scendeva dalla macchina la difesa sì la difesa ricorda in che periodo l'avete accompagnato al policlinico Geraci siamo sempre quel periodo 91 la difesa può essere che è il periodo prima delle stragi Geraci che ricordi io sì il periodo prima delle stragi nel senso vicino alle stragi del 91 un po' dopo Geraci onestamente non ricordo di preciso se era un po' prima la difesa contesta un verbale di interrogatorio io a pagina 129 130 dell'interrogatorio reso alla procura della Repubblica di caltenista dottore Marino penso dopo che parla di questo accompagnamento a Palermo il dottore Nicolò le chiede in che periodo siamo siamo nel periodo ancora prima delle stragi queste qua e sono state fatte queste stragi di Falcone e Borsellino sì era a cavallo sono quelli lì gli ultimi calci che hanno dato con queste stragi qua siamo diciamo vicino alle stragi non siamo tanto lontani se siamo a cavallo Geraci avvocato confermo quello che ho dichiarato quindi a cavallo delle stragi Francesco Messina a denaro interloquiva camminava si recava da Trapani andava al puniclinico di Palermo saliva scendeva dalla macchina autonomamente ma a sostegno di quando sopra a sostegno di quando vi ho appena detto soccorre la nota citazione di Brusca il quale più volte ha affermato che la carica di capomandamento viene mantenuta vita natural durante il Cangemi innanzi la corte assisa appello di Catania ora vi spiego perché ha ribadito che la carica di capomandamento si conserva fino a quando la persona seppure in agonia respira nel letto la corte assisa appello di Catania si è posta al problema rispetto a Madonia Francesco Madonia Francesco la difesa faceva leva sul fatto per smentire che il Madonia quando comunque ha ritenuto che il Madonia avesse potuto ricevere l'informativa sul piano stragista e prestare il consenso la difesa faceva leva sul fatto che il Madonia aveva subito un ictus un ictus un imparto quindi la difesa diceva ma questo sta molto male non gli hanno potuto trasmettere l'informativa non ha potuto prestare il consenso la corte supera tutto Madonia verrà condannato oltretutto un soggetto malato detenuto tra le altre motivazioni che leggerete rispetto alla posizione di Madonia ci sono pure queste citazioni dei collaboratori il capo rimane tale sino a quando respira nel letto Presidente un attimo ho bisogno di barra vuole che facciamo una pausa non lo so come preferite voi no va bene magari la facciamo dopo mi soffermerò su alcuni passaggi della sentenza di questa sentenza che la stessa lo stesso giudice di primo grado non voglio mancare rispetto ai diciamo giudici togati che conosceranno il contenuto voglio un attimo ripercorrerla per essere per far comprendere meglio le mie i miei spunti di riflessione ai giudici popolari perché io credo che bisogna comunque capire che cosa sia questo piano stragista e abbiamo questa sentenza che questi giudici sono impegnati veramente tanto cosa succede che la corte di Cassazione che annullava la sentenza emessa nell'ambito del processo Capaci procedeva all'annullamento di numerose statuizioni di condanna a titolo di concorso e osservava la conoscenza della linea strategica cioè del programma criminoso da parte dei capi mandamento a valenza sul piano della prova del reato associativo non su quello del concorso morale rispetto a un reato fine di omicidio quindi dice la corte la corte di Cassazione questa linea strategica di cui giudici voi tanto parlate non risolve le questioni che attengono la stregge di Capaci perché dice individua al più in capo agli stessi imputati un atteggiamento psicologico di condivisione tendenziale del progetto criminoso in idoneo a integrare gli estremi del movente specifico cosa dice la corte di Cassazione i vari delitti realizzati nell'ambito di questa comune progetto criminoso non risultavano la conseguenza di una decisione collegiale invece la corte assise i sollecitava i giudici di rinvio i fa questi delitti devono essere il portato conseguenziale di una decisione collegiale banca qui in tutto quello che mi state dicendo la decisione collegiale e quindi i giudici di Catania sono costretti a porsi il problema e sulla scorta cioè sollecitata dalla corte di Cassazione quindi la corte in primo luogo abbandona la precedente terminologia e parla di piano stragista proprio per evitare equivoci interpretativi e dei linee connotati di questo piano ecco perché poc'anzi vi diceva il manuale del piano stragista afferma non si tratta di una linea generica strategica avulsa da una decisione collegiale ma è un vero è proprio piano ci dice poi la corte questo piano deve avere un duplice contenuto decisionale deliberativo decisionale strategico ora ci soffermeremo è un atto collegiale è un atto collegiale che viene manifestato con la volontà dei capi in delle riunioni dei capi della commission cioè dei vertici degli appartenenti della commissione regionale dei capi mandamento della commissione provinciale e la corte dice l'individuazione del tempo è importante in cui viene a formarsi la volontà collegiale che segna il preciso momento in cui il piano si può considerare perfezionato l'adozione del piano però non è fino a se stesso è rivolto al conseguimento di un obiettivo ecco il contenuto strategico l'obiettivo che si intende conseguire con la deliberazione e poi anche con la realizzazione della deliberazione ovvero la materiale esecuzione dei delitti che nel piano sono ricompresi l'obiettivo che individua la corte in base al contenuto tematico diciamo di queste riunioni di quello che dicevano in queste riunioni i partecipanti che poi ci riferisco ai collaboratori la corte individua l'obiettivo che sarebbe di vendetta e di resa dei conti ma c'è qualcosa in più c'è l'obiettivo della destabilizzazione dello Stato l'uccisione di rappresentanti istituzionali per l'apertura di trattative con nuovi referenti politici l'obiettivo 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 il contenuto quindi strategico è il movente generale del piano il movente generale va distinto dal movente specifico il movente specifico è sotteso è quello sotteso al singolo delitto che è compreso nel piano il movente generale poi c'è che è questo qua che vi dicevo vendetta resa dei conti destabilizzazione il movente specifico per esempio è uccido dottore Falcone perché è nemico di cosa nostra punto l'avere approvato il piano stragista c'è la corte assisa appello di Catania perché partecipo all'unione perché do il consenso dopo aver ricevuto l'informativa assume il significato giuridico di approvazione congiunta del piano nel suo duplice contenuto quindi deliberativo e strategico il piano è unitario i due contenuti sono inscindibili vi ho detto poc'anzi che l'adozione del piano questo è un passaggio importante l'adozione del piano ha la sua ragione genetica nella maxiprocesso cercavano di sistemare questo processo non ci riuscivano quindi la ragione genetica del piano è il maxiprocesso siccome quindi se il maxiprocesso imitabilmente i primi ad essere inclusi in questo piano sono i dottori Falcone e il dottore Borsellino nemici storici di Cosa Nostra quindi la corte d'assise appello di Catania cosa fa sollecitata sul punto perché invece il problema si pone nel Borsellino terra rispetto rispetto quindi alla strage di Via D'Amelio i giudici infatti ritenevano che ci fosse stata una interruzione di questa continuità del piano rispetto alla strage di Via D'Amelio invece la corte assise appello di Catania cosa ci dice no per il dottore Falcone Borsellino che sono i nemici storici di Cosa Nostra la deliberazione ha un contenuto rinnovativo cioè la loro uccisione deve necessariamente confluire nel piano quindi ha la deliberazione un contenuto di rinnovazione dell'originaria decisione di morte di Cosa Nostra che già la decisione di morte di Cosa Nostra del dottore Falcone Borsellino risaliva agli anni 80 quindi mai revocata quindi al momento della deliberazione quindi per essere più per comprendere meglio ve la rendo spiccia quindi al momento della deliberazione anche se per esempio in una riunione non si parlava del dottore Borsellino il dottore Borsellino al momento in cui il piano veniva deliberato definitivamente dalla commissione di competenza dalla nostra commissione regionale era incluso già la strage di di Adamelio perché la Corte dice nel senso di una rinnovazione attuata mediante conferma della originale decisione di morte o mediante una sua riconferma vi ho riportato questi brevi passaggi di questa così importante sentenza perché ritengo che siano indispensabili perché voi possiate comprendere quello che tra un po' andrò a sottopare la vostra attenzione e non dimenticate mai che la Corte di Assise definisce la sentenza della Corte Assise a Pello di Catania Pietra Migliare Pietra Migliare nella individuazione dell'Incipit del progetto di morte decretato a Cosa Nossa quanto vi ho appena detto sul contenuto del piano straggista mi serve perché voi possiate capire quello che tra un po' vi dirò sulle riunioni perché le riunioni non sono un aspetto così da trattare superficialmente io penso che invece vadano approfondite per capire quando viene effettivamente si può dire che il piano sia definitivamente approvato dalla commissione regionale un piano attenzione che deve ricomprendere le stragi quelle che sono contestate all'odierno imputato vi riporto i passaggi comunque le dichiarazioni collaboratorie di giustizia che vengono utilizzati non solo dalla Corte d'assise appello di Catania ma vengono utilizzate anche dalla nostra Corte nella sentenza abbiamo Leonardo Messina Leonardo Messina uomo d'onore della famiglia Nistani San Cataldo parla di riunioni nel territorio onnese che sarebbero avvenute in base di chiazzone il collaboratore a fine 91 inizi del 92 dice nel territorio annese perché era un territorio non particolarmente sottoposto al controllo di polizia e comunque una posizione di equidistanza dalle altre province dove il collaboratore dice si sono riuniti i vertici i vertici della commissione provinciale Madonia Giuseppe Santa Paola Saitta Rina e Brusca il collaboratore dice erano tutti là stavano gettando le basi di un nuovo progetto politico poc'anzi vi dicevo la Corte individua i contenuti del piano rispetto a quanto dicono questi soggetti questi collaboranti rispetto alle riunioni stavano gettando le basi di un progetto politico quindi che significa stava gettando le basi di un nuovo progetto politico che non stavano deliberando niente stavano studiando stavano elaborando un nuovo progetto un nuovo progetto criminoso quindi ma la Corte vi dice la Corte assise ad appello di Catania dice non hanno contenuto decisionale deliberativo hanno contenuto decisionale strategico di creazione di Leonardo di Messina che sono riportate anche la sentenza impugnata poi abbiamo tutta una serie di collaboratori delle di cosche mafiose di Catania Malvagna Grazioso Pulvirendi Malvagna pure parla di riunioni nel territorio ennese che di queste riunioni avrebbe appreso dallo zio Pulvirendi Giuseppe che è anche un altro collaboratore che riferisce di queste riunioni e parla sempre di riunioni della fine 91 inizio 92 anche lui con la partecipazione di esponenti di vertice di Cosa Nostra tra cui Santa Paola e Pulvirendi l'avrebbe appreso proprio direttamente da Santa Paola sempre seguendo il ragionamento perché vi dico il mio studio comunque si confronta sempre lo studio degli atti processuali comunque è stato orientato sempre dal contenuto della sentenza della Corte Assisi Appello di Catania la sentenza della Corte Assisi Appello di Catania cosa dice? qui hanno deciso qual era il contenuto strategico del piano però perché il contenuto strategico nel senso che già i partecipanti delle riunioni avrebbero parlato di destabilizzazione dello Stato la Corte però i giudici etnei dicono attenzione in questo momento se leggete bene dichiarazione del vero io sono andata a riscontrare il contenuto deliberativo è limitato cioè fa riferimento ad atti intimidatori e ad uccisioni non non con modalità stragiste omicidi infatti tutti i collaboratori che sono stati sentiti questi soggetti malvagna pulvirenti grazioso in effetti cosa dicono non parliamo di Falcone e Borsellino però io non mi pongo il problema di Falcone e Borsellino perché vi ho detto poc'anzi non mi discosterò mai da quello che mi insegna la sentenza di Catania per loro ha un contenuto rinnovatorio però voglio voglio accendere diciamo voglio concedere la vostra attenzione su questo fatto malvagna pulvirenti e grazioso parlano di atti intimidatori solo dell'uccisione dell'onorevole Lima quindi in effetti ha ragione la corte quando dice il contenuto deliberativo in quel momento è limitato perché vi dico questo perché un indizio che la corte la corte vi dice quali sono tutti quegli indizi che possono valere come prova per ritenere che un soggetto abbia aderito al piano stragista tra questi indizi c'è anche la conoscenza che l'obiettivo è sottoposto a scorta e quindi a misure di protezione talmente elevate da richiedere necessariamente una strage ora perché vi dico in quel momento non sono deliberate non vengono deliberate le stragi perché si parla solo di Lima e Lima è un'uccisione di realizzazione Brusca ci dice è il primo del piano perché comunque sapevamo che non avrebbe richiesto particolare fatica diciamo mettiamola così ma io una conferma di quanto vi sto dicendo quindi se si parla di Lima scusate concludo se parlano di Lima non sono i partecipanti non parlano di stragi e nemmeno una consapolezza in tal senso può venire cioè che devono commettere stragi perché non si parla attenzione di Borsellino e Falcone solo di Lima di facile realizzazione una conferma io la ritrovo nel comportamento di Santa Paola non vi deve sfuggire che Santa Paola che è uno che avrebbe partecipato alla riunione deliberativa del piano stragista a novembre del 1992 e quindi a ottobre del 91 abbiamo il momento in cui la nostra corte colloca la deliberazione del piano stragista quindi siamo leggermente più avanti Santa Paola il 2 novembre non ordina non dà mandato di uccidere Pippo Baudo dice lasciatelo stare fanno soltanto l'attendato alla casa di villeggiatura a Santa Tecla di Pippo Baudo coglierete un iniziale atteggiamento morbido di Santa Paola di cui comunque vi parlerà anche di cui vi parla anche la sentenza della corte di assise d'appello di Catania quindi io ritengo da questi dati che ho posto a vostra attenzione c'è il fatto anche che Santa Paola dice lasciatelo stare quindi niente omicidi fategli l'attentato alla casa di villeggiatura è chiaro che non può sostenersi quando dice la corte nella sentenza impugnata che già la volontà collegiale dei capi della commissione regionale è completamente perfezionata ancora mancano le stragi si parla di omicidi la stessa corte ci dice nella sentenza impugnata a pagina 384 con riferimento ai mafiosi catanesi si erano mostrati nella sostanza tiepidi e resti al compimento di azioni soprattutto se eclatanti in una seconda fase gli stessi si erano via via mostrati maggiormente disponibili ma oltre all'attentato a Pippo Baudo ma se leggete le dichiarazioni dei collaboratori facevano le intimidazioni telefoniche in tribunale le intimidazioni al al sindaco di mister bianco quanto vi sto dicendo credo che abbia anche conferma nel fatto che vedrete che i collaboratori ci dicono che questi vertici continuano a riunirsi cioè continuano a incontrarsi abbiamo riunioni a dicembre a dicembre in prossimità anche della riunione della famosa riunione della commissione provinciale quella dell'anno di dicembre 1991 quella che sicuramente conoscete che è quella del corale silenzio di cui ci parla giuffrè della commissione provinciale quindi dei capi mandamento della provincia di Palermo questi vertici delle province in cui esisteva Cosa Nostra invece continuavano a vedersi si incontravano ma come se dobbiamo ritenere che la corte abbia collocato esattamente la deliberazione ottobre 1991 ma che senso ha che questi signori continuano a vedersi abbiamo Pulci che ci dice Vara che ci dice di aver visto Madonia Giuseppe che trascorreva la titanza in nord Italia mi sembra vicino a Vicenza di aver incontrato in Sicilia Madonia Giuseppe che era la titante Madonia Giuseppe gli dice dobbiamo decidere cose importanti questi ancora continuavano a vedersi però secondo la corte già il piano è perfezionato ma su che cose dovevano ancora deliberare questi signori che avevano necessità ancora di vedersi e che Madonia dice abbiamo questioni importanti dobbiamo parlare di questioni importanti Vara quindi e Pulci parlano di queste riunioni sempre della commissione regionale a dicembre e inizi del 92 ma c'è anche un'altra riunione importante che è doverosa da parte mia portare la vostra attenzione ed è anche perché è una riunione di cui parla la sentenza impugnata ed è la riunione dell'1 febbraio del 1992 quella di cui riferisce Messina Leonardo la riunione viene collocata l'1 febbraio abbiamo il dato certo che è avvenuta l'1 febbraio del 92 perché Messina Leonardo sarebbe stato sottoposto ad un controllo di polizia e quindi abbiamo il riscontro temporale di questo controllo e in queste riunioni partecipano i vertici della i capi provinciali in questa riunione di cui riferisce Leonardo Messina le dichiarazioni di questi collaboratori vi dico che fatta eccezione per quelle di pulci costituiscono proprio la base probatoria su cui il giudice colloca temporalmente riusciano di poter collocare temporalmente la deliberazione del piano stragista quindi la volontà già completamente perfezionata nel mese di ottobre del 91 in tutte innanzitutto voglio dire una cosa in tutte queste commissioni di certo non è presente Mattea Messina a denaro è già questo l'assenza di un capo provincia di quello che viene ritenuto capo provincia in una di queste riunioni tenuto conto che capo provincia necessariamente deve essere capo della commissione regionale è trangente proprio rispetto alla ritenuta adesione dell'imputato che avrebbe l'adesione che avrebbe dato l'imputato al piano stragista contemplante le stragi quindi vi dovete chiedersi vi dovete chiedere perché ritengo che la Corte non offra un dato certo vi dovete chiedere quando e se e in quale luogo l'imputato ha manifestato ha prestato il consenso ha dato la sua adesione al piano stragista che questa non sia una lacuna di scasso rilievo emerge dal fatto ritengo che la stessa la Corte cosa fa invece di offrirci un dato certo ci prospetta le tre ipotesi alternative e ci dice Messina Denaro presente o non presente alle riunioni di Anna delegante di un soggetto non individuato del Rina stesso a quel consenso financo assentore in separata sede condivise in pieno l'oggetto e la portata del piano criminale del Rina di attacco allo Stato e di stabilizzazione delle sue istruzioni a pagina 972 e 973 vi dico quindi tre ipotesi alternative presente se non è presente c'è un nuncius questo può essere stata data una delega allo stesso Rina o in separata sede in appositi incontri che sono avvenuti tra di loro queste le ipotesi alternative che ci vengono offerte alla Corte nulla di certo la Corte ci vuole far credere che una di queste possibili separate sedi sia la riunione di Castelvedrano di cui vi ha tanto parlato il procuratore generale riunione in cui partecipa l'imputato a questa riunione partecipano Giuseppe e Filippo Graviano Agate e Mariano Agate e Mariano presenta la riunione di Castelvedrano Vincenzo Sinacori e Rina naturalmente la Corte vi ho detto poc'anzi colloca la riunione di Castelvedrano a ottobre del 91 a ottobre del 91 perché alla data del 7 ottobre del 91 cessa la misura degli arresti domiciliari per Filippo Graviano e comunque ritiene di poterla collocare dopo e prima dell'attentato a Pupobaudo quindi il 2 novembre del 1991 ora rispetto a questa separata sede io devo evidenziarvi alcuni profili che contrastano con quanto sostenuto nella sentenza impugnata la Corte naturalmente ritiene che la partecipazione all'unione di Castelvedrano rappresenti e poi me l'ha detto il procuratore generale rappresenti la dimostrazione dell'adesione dell'imputato al piano stragista e fa diciamo come lo fa la Corte sempre esaltando le famose dichiarazioni di Vincenzo Sinacori partecipante alla alla riunione ma cosa ci dice Sinacori Rina avrebbe dato degli ordini cioè noi riceviamo degli ordini quindi nessuna deliberazione di recarsi a Roma per colpire personaggi di rilievo questi personaggi di rilievo vengono indicati dal Sinacori sono Giovanni Falcone il ministro Martelli Maurizio Costanzo e Andrea Barbato la Corte d'Assise d'Appello vi dice questa riunione a natura esecutiva la Corte nella nostra sentenza impugnata dice a natura paradeliberativa paradeliberativa Sinacori ci dice riceviamo ordini soldati Catania parla di commando commando di Trapani soldati che recepiscono ordini alla trasferta romana io ritengo che sono proprio le dichiarazioni invece di Sinacori che vanno a smentire la natura che invece viene quella paradeliberativa che ci viene invece indicata dalla sentenza della Corte di Assise una natura dal momento che sicuramente nessuna deliberazione può essere avvenuta ma ed escudersi anche l'imputato abbia manifestato in quell'occasione l'adesione a piano stragista e ha anche offerto un contributo alla sua attuazione mi preme dirlo perché vi dico questo perché leggendo le dichiarazioni di Sinacori si coglie che loro si limitano a ricevere un ordine ovvero di attuazione di propositi criminosi che non solo non sono mai realizzati ma soprattutto diversi da quelli che saranno contemplati a mio avviso successivamente e in via definitiva dal piano stragista ovvero le stragi il procuratore generale ha tanto esertato l'incontro di Castelvetrano l'incontro e la trasferta romana dice quei soggetti che parteciparono all'incontro di Castelvetrano erano stati erano privilegiati perché avrebbero formato la supercosa allora questa supercosa praticamente è nulla è nulla ed è lo stesso Sinacori che ce lo dice intanto di tutti questi ordini non è stato attuato a Roma nulla se leggete la sentenza della Corsa Assisappoli di Catania i giudici attinei fanno delle belle osservazioni sulla trasferta romana un fallimento un fallimento prima ancora che sia avviata arrivano già per dirne una arrivano a Roma l'appartamento ritrovato da Agate Mariano fatiscente quindi soggetti che partono per dover fare delle strage a Roma non hanno neanche la base logistica in più ma è la stessa corte il procuratore generale vi dice che questi soggetti se voi leggete bene abbiamo dei soggetti che per la corte dovevano attuare propositi criminosi con modalità stragiste che vanno per Roma girano per le vie di Roma se ne vanno a comprare abiti firmati spendono cifre abbastanza consistenti in abiti firmati andavano in discoteche questi erano quelli che dovevano diciamo dare concreta attuazione al piano e quindi c'è estremamente legata all'incontro di Castelvetrano quindi c'è questa trasferta romana che vedete bene perché ritengo che la natura della corte è diversa da quella individuata dalla corte è diversa da quella che si coglie invece dalle dichiarazioni di Sinacori perché una circostanza che balza evidente che è evidente anche dalle stesse argomentazioni che vi offre sul punto la sentenza impugnata il piano a cui dovevano dare attuazione questi soggetti questo proposito criminoso riguardava soltanto alcuni obiettivi Sinacori ci dice gli obiettivi e sono dottore Falcone storico nemico della mafia Maurizio Costanzo perché Maurizio Costanzo aveva aderito alla lotta contro la mafia e in occasione di una trasmissione televisiva bruciò la magliettina una magliettina dove vi era incisa sopra la scritta viva la mafia Made in Italy quindi si era schierato a favore della lotta contro la criminalità organizzata poi abbiamo Martelli il traditore Martelli che aveva beneficiato in campagna elettorale dei voti di Cosa Nostra che non era riuscito a fare nulla a rimediare questo famoso maxiprocesso momenti specifici nessun riferimento al momento generale che è la destabilizzazione quindi dello Stato in base a dichiarazione di Sinacori ma poi cosa si ricava dalle dichiarazioni di Sinacori un dato anche importante le modalità di esecuzione di questi propositi criminosi innanzitutto erano autorizzati avevano ricevuto l'autorizzazione da Reina di utilizzare armi poi avevano dell'esplosivo però l'utilizzo di questo esplosivo era subordinato sempre all'autorizzazione di Reina Sinacori non così Sinacori ci dice io da Roma scendo in Sicilia per chiedere l'autorizzazione a Reina c'è questo passaggio importante quindi nessuna certezza da queste dichiarazioni viene da Sinacori sulla possibilità di sull'attuazione degli ordini impartiti da Reina con modalità stragiste perché i collaboratori che sono che riferisco sulla trasferta romana sono Sinacori e Geraci e ci dicono che non sanno di detonatori e di telecomandi si portano dietro un sacco di sabbia e in più non c'è nessuno non sanno indicare non sanno se tra di loro c'è qualcosa che sapesse se qualcuno che sapesse utilizzare questo esplosivo attenzione non prendere l'esplosivo e infilarlo dentro una macchina manca proprio chi sa costruire la bomba il procuratore generale nel corso della sua requisitoria ha sostenuto invece il contrario di quello che vi sto dicendo io perché dice c'era Tinnirello tra i partecipanti alla trasferta romana su quello che dice il procuratore generale vado diciamo a trovare cercare il riscontro dice c'è Tinnirello perché c'è Tinnirello dice il procuratore generale Tinnirello sarebbe un soggetto che avrebbe uno di quei soggetti che avrebbe ricevuto prima della strage di via D'Amelio la 126 nel famoso magazzino e quindi viene indicato da Spatuzza come quel soggetto quindi che avrebbe accolto Spatuzza la 126 in questo magazzino dove poi la 126 sarebbe stata imbottita dell'esplosivo quindi il procuratore dice allora Tinnirello è uno che poteva sapeva fare con l'esplosivo signori io ho cercato riscondi su questa affermazione del signor procuratore generale io dalle precedenti sentenze ricavo soltanto che Tinnirello è un bravissimo killer Tinnirello fa parte sicuramente fa parte del gruppo di fuoco della famiglia di Brancaccio ma che sapesse creare una bomba io non ho trovato riscontro alcuno nelle sentenze mi porto dietro un cecchino cioè io so che ho un cecchino se voglio se mi porto dietro un cecchino sono sicuro che posso uccidere qualcuno se mi porto l'esplosivo senza detonatori senza telecomandi senza qualcuno che sa creare la bomba non ho la consapevolezza che devo fare una strage ma le dichiarazioni di Sinacori leggete le dichiarazioni di Sinacori il difensore gli fa una domanda e Sinacori risponde ma avvocato perché la corte vi dice vabbè anche con delle armi comuni da sparo si possono fare delle stragi no non è proprio così ora abbiamo anche una giurisprudenza molto recente che proprio ci offre a chiare lettere la distinzione del delitto di omicidio plurimo e del delitto di strage però comunque i giudici togati sanno a che cosa mi sto riferendo però in ogni caso non è argomento che posso affrontare quello che però sono le dichiarazioni di Sinacori che risponde al difensore avvocato ma lei pensa che fossimo dei pazzi che fossimo là per sparare a muzzo alle persone un cecchino io ho un obiettivo specifico mi porto il cecchino ci sparo nessuna strage quindi se la partecipazione trasferta la partecipazione trasferta romana io credo che la luce di quanto vi ho appena evidenziato non possa tenersi dimostrativa di una preventiva adesione del Matteo Messina Denaro al piano stragista con contenuto stragista cioè contemplante le stragi però una messa a disposizione rispetto a questa attuazione rispetto all'attuazione di un proposito criminoso che aveva specifici obiettivi finalità che non c'è il movente generale del piano strategico non c'è la destabilizzazione c'è il movente specifico il piano comprende anche il movente generale la destabilizzazione faccio fuori tutti perché devo fare la trattativa con lo Stato è quello romano attenzione il luogo non la Sicilia quello romano stragi che quindi non dovete mai dimenticare signori giudici popolari hanno la determinate fidelità di destabilizzazione dello Stato non solo perché dottore Borsellino e dottore Falcone sono i nemici storici di Cosa Nostra c'è qualcosa in più ma poi abbiamo le stragi le stragi di Veda Melio e di Capaci che sono l'esternazione massima della l'esternazione proprio della volontà collegiale perfezionata quella perfezionata fatti con le stragi con modalità eclatanti quindi volontà collegiale su le modalità che sono stragiste gli obiettivi le finalità perseguite che sono differenti rispetto a quella a cui doveva rispondere la trasferta romana la trasferta romana non c'è il momento generale ma quello che sto diciamo cerco di di sto cercando veramente di convingervi di quello che io penso quello che vi ho detto trova riscontro in questo dato che ci offre Sinacori ma perché l'esplosivo cioè per l'utilizzo l'impiego dell'esplosivo era necessaria un'ulteriore autorizzazione del Rina ma è chiaro la commissione regionale non aveva ancora deliberato le stragi ci dicono le sentenze del Rina doveva essere sicuro che tutti i vertici fossero convinti di quello che stavano facendo perché poi le conseguenze stiamo parlando di delitti eccellenti investivano tutti già c'erano stati problemi con l'omicidio del generale della chiesa si erano creati dissapori perché c'era qualcuno che non voleva quindi Rina doveva specialmente per la sua idea che era quella di sconvolgere il nostro paese doveva ricevere necessariamente l'adesione da parte di tutti anche rispetto alle stragi l'attuazione delle stragi trasferte romana Sinacori scende scende e Rina gli dice tornate tutti indietro perché qui abbiamo trovato cose più grosse Sinacori dice all'udienza del 3 aprile 2019 io neanche ho capito a che cosa si riferisse cosa fosse questa cosa più grossa ci dice specificatamente io lo capisco so la strage avvenuta che la cosa più grossa era la strage di Capaci quindi la circostanza che Rina senza alcun preavviso senza dare alcuna spiegazione quindi a Sinacori quindi su cosa fossero effettivamente queste cose più grosse dimostra che il piano stragista ancora non aveva assunto connotati aveva assunto connotati diversi proprio nell'emore della trasferta romana e di questa nuova connotazione finita non era conoscenza Matteo Messina Denaro che il piano avesse assunto una connotazione differente differente rispetto al proposito criminoso a cui rispondeva la trasferta di Castelverdano e c'è qualcosa anche in più che Cosa Nostra volesse che lo Stato capisse che chi mettesse la firma sulle stragi lo Stato capisse da subito che doveva avere come interlocutore Cosa Nostra e quindi non che i delitti potessero essere condotti ad altri gruppi criminali e faccio riferimento alle dichiarazioni di Pulci che parla di una diversità di vedute tra i vertici e la commissione regionale vi invito sempre a pensare che la commissione regionale non è la riunione che le riunioni della commissione regionale non sono assimilabili alle riunioni di cui ci parla Pulci quella del Corale Silenzio no le riunioni della commissione regionale il fatto che questi continuano a incontrarsi non è quella del Corale Silenzio è quella che parlano parlano di qualcosa non sono da qualcuno non è d'accordo c'è una diversità di vedute che il piano non avesse assunto con notazione ancora non avesse assunto nell'emore della trasferta diciamo cioè prima dell'avvio della trasferta romana c'è l'inconsapevolezza dell'imputato rispetto ad un piano con connotazione stragista è data anche dal fatto della riunione dell'1 febbraio del 1992 quella di cui parla Messina Leonardo una riunione che si colloca quella in cui proprio la Corte si applica dice riguarda specificatamente la strage di Capaci quindi capite che se il 31 gennaio del 1992 c'è una di quelle riunioni preparatorie alla trasferta romana quindi in base a ragionamento della Corte dovremmo sostenere che al 31 gennaio la volontà collegiale è perfetta quindi già tutto concluso quindi se già tutto concluso la trasferta romana risponde al piano stragista no no l'1 febbraio cioè il giorno dopo del 31 riunione riferita a trasferta romana un'altra riunione i vertici di Messina Leonardo ma questi signori ma su che cosa non erano d'accordo l'1 febbraio siamo sicuri che Reina è sicuro che potrà fare la strage ha ricevuto finalmente il consenso da parte di tutti questi questi perché perché vi voglio vi do do particolarmente risalto a questa riunione dell'1 febbraio del 92 perché è una riunione che c'è Santa Paola ci sono i vertici si deve necessariamente i vertici devono decidere su perché mi direte i giudici togatti mi diranno avvocato ma c'è la compartimentazione no ma l'1 febbraio se si riuniscono i vertici evidentemente si ancora si doveva decidere su aspetti che invece non potevano essere rimessi ai gruppi ristretti quelli delle riunioni di febbraio e marzo del 92 di cui ci riferiscono Brusca e Cangemi un contributo ce lo offre la Corte Assisi Appello di Catania vi ricordo che per la sentenza impugnata è la pietra miliare nell'individuazione dell'incipit del progetto di morte decretato da Cosa Nostra Catania cosa ci dice è difficile concludere nel senso che Reina abbia seriamente confidato il positivo esito della missione romana la quale può trovare una sola spiegazione alternativa quella di avere costituito un astuto espediente per secondare coloro che gradivano l'attentato a Roma Provenzano e Madonia ma non dimenticate io aggiungerei anche non dimenticate il morbido atteggiamento l'iniziale morbido atteggiamento di Santa Paola non uccidete Pippo Baudo andate a fare l'attentato alla casa di villeggiatura e al tempo stesso per incominciare a organizzare l'attentato in Sicilia con modalità stragisse questa è la corte assisa appello di Catania che avete agli atti da questo passaggio motivazionale della sentenza si cava che nel momento in cui l'imputato quindi si trova a Roma nel tentativo di attuare ordini preconfezionati che non rispondevano all'obiettivo e alla finalità stragissa Rina e gli altri vertici avevano già definito luogo e modalità stragiste e che il luogo dove attenzione stiamo parlando del momento iniziale del piano Cerrina deve essere da subito certo comunque deve dare il suo segnale subito che i delitti sono riconducibili alla cosa nostra e lo Stato deve interloquire con cosa nostra non sono le stragi del continente già siamo in una fase avanzata è la fase iniziale del piano che il luogo quindi dove seguire l'attentato quindi non era un aspetto secondario perché come voluto da Reina i delitti dovevano essere commessi in territorio siciliano e non invece altrove a Roma perché Provenzano e Madonia volevano che venissero ricondotti a diversi gruppi criminali non volevano che l'attenzione venisse portata su di loro perché poi le conseguenze le pagano loro quindi la corte d'assiso appello di Catale dice quello è stato un astuto espediente della Reina per secondare in maniera illusoria gli altri vertici che invece volevano che l'attentato si facesse altrove per tenere comunque per non pagare le conseguenze della reazione dello Stato perché i delitti venissero ricondotti ad altri invece la corte nissena si uniforma in modo apodittico la tesi accusatoria quella naturalmente sulla missione romana e su tutto quello che dice la corte d'assiso appello di Catania non ne fa assolutamente uso quella che prima la pietra miliare non è più condivisibile perché ci dice il giudice io non lo condivido quello che dice quello che dicono i giudici attenai perché i giudici attenai avrebbero comunque aderito a quella prospettazione degli accadimenti che ci offriva Pulci che fu il Pulci che parlava di questa diversità di vedute cioè Pulci che diceva cioè comunque ci dà sulla scorta loro dichiarazioni ma anche vi dicevo poco anzi il fatto che questi avevano necessità di continuare i loro incontri nel mese di dicembre Pulci spessamente ci dice all'interno della commissione c'è una diversità di vedute c'erano da un lato Madonia e Provenzano che non volevano che l'attentato specificatamente al dottore Borsellino si facesse in Sicilia c'era invece Rina che voleva che l'attentato si facesse in Sicilia e addirittura Rina cerca di convingergli dicendo che aveva ricevuto delle rassicurazioni da soggetti delle istruzioni che non avrebbero ricevuto non avrebbero subito delle ritorsioni però nonostante questo i due rimanevano propensi all'attentato per l'attentato a Roma quindi secondo la nostra corte Catania i giudici etnei danno una valenza riduttiva della trasferta romana che non si può condividere ma perché ci dice così il giudice di primo grado loro ritengono che i giudici etnei comunque avevano lavorato su acquisizioni probatorie diverse comunque più ridotte rispetto a quelle rispetto alle acquisizioni del giudizio di primo grado poi perché dice in poche battute ci vuole far credere in poche battute dice io non condivido perché Pulci è stato dichiarato inattendibile Pulci è stato dichiarato inattendibile nel processo Borsellino Quater è dalla sentenza gruppo del 2013 nel processo Tranchina più altri ma in realtà quello che dice la Corte a mio avviso non si può condividere perché sostanzialmente il materiale probatorio quindi è lo stesso e poi la Corte stessa mi indica un passaggio dove poi essenzialmente lei lo conferma nel senso che lei poi utilizza le dichiarazioni di quei collaboratori che sono stati utilizzati fatta eccezione per Pulci dai giudici di Catania perché stiamo parlando delle riunioni della fase deliberativa Pulci è stato dichiarato inattendibile relativamente alla fase esecutiva della strage di Via D'Amelio ma rispetto alle riunioni oltretutto i giudici etnai sicuramente non erano giudici superficiali il contenuto della sentenza che hanno reso dimostra il contrario già si era posto il problema di Pulci perché quando c'era in corso il giudizio di rinvio già Pulci era stato raggiunto dall'ordinanza di custodia cotela relativamente alla calugna che avrebbe posto i danni di poi stato condannato di Murana ma la corte d'assiso d'appello di Catania si pone questo problema supera lo ritiene attendibile perché non dovete dimenticare che Madonia Giuseppe il riscontro degli altri collaboratori che indicano Madonia Giuseppe come capo provincia e come soggetto che ha partecipato alle riunioni il riscontro alle dichiarazioni di collaboratori che riferivano su questo fatto ce lo dà lo dà Catania Pulci cioè la corte d'assiso d'appello di Catania utilizza Pulci per dire è certo che Madonia Giuseppe era capo provincia e ha deliberato quale componente della commissione provinciale e oltretutto vi dirò di più Pulci sulla base di dichiarazioni di Pulci sono stati sequestrati i beni di Madonia Giuseppe quindi non è che di un collaboratore quando ci conviene è buono quando non ci conviene è inattendibbia ma poi dico la corte lo conferma rispetto alle dichiarazioni di Pulci dice le sue affermazioni hanno rappresentato lo strumento che ha consentito la corte assisa appello di Catania di mettere ordine alle distinte ma attendibili relazioni di Messina Vara Malvagni è grazioso poi sostanzialmente Pulci riscontra le dichiarazioni di questi collaboratori diversità di vedute all'interno di questa commissione provinciale ma ce le dà Brusca Brusca parla di questa di questo contrasto tra Provenzano e Reina facciano sempre così c'era uno che voleva fare i delitti fuori c'era l'altro che per forza gli doveva fare la portata di mano Provenzano non è che diceva non dobbiamo uccidere Falcone quando si parlava di Giovanni Falcone per esempio io mi ricordo benissimo perché sono delle cose che poi ti rimangono e lamento non so come quando facciamolo trasferire a Roma e poi andiamo a cercarlo uccidiamola e Totorrina dice no io ce l'ho qua lo devo ammazzare qua era un battibecco tra di loro quindi la commissione regionale non è la commissione del corale silenzio quella di Pulci no è diversa ma poi vogliamo trovare un riscontro a quello che io vi sto dicendo in quell'aspetto che vi avevo diciamo vi ho messo già all'inizio in evidenza che si coglie nella sentenza della Corte Assisi Appello di Catania una necessità di Reina di trasmettere l'informativa da Gata a Mariano uno che aveva partecipato la riunione di Castelvetrano uno che aveva partecipato alla prima delle riunioni preparatorie della missione romana quindi già a conoscenza della volontà definitiva di Cosa Nostra no Reina no trasmette l'informativa ad Agate Mariano appena detenuto in carcere quindi una informativa più difficile da trasmettere rispetto ad uno libero a portata di mano che nelle argomentazioni della Corte è indicato in mattia messina denaro possiamo fare un po' di pausa Presidente certo Avvocato grazie si prendete posto cortesemente così riprendiamo l'udienza grazie prego Avvocato novello sulle scorte di quello che vi ho detto po' anzi avete già capito che sto cercando in tutti i modi di convincervi che nelle more della trasferta romana questo piano stragista assumeva i connotati che rendevano necessaria deliberazione e di questi connotati l'imputato che partecipava alla trasferta non era a conoscenza vi è un altro episodio che la Corte indica la Corte Assise indica come indicativo dell'adesione dell'imputato al piano stragista questo famoso piano stragista ed è l'attentato al dottore Germana la Corte cosa ci dice tutto ciò che rientrava nella strategia posta in atto da Rina dopo la sentenza del maxiprocesso in base alla quale ogni articolazione locale di Cosa Nostra nel suo territorio doveva provvedere a togliersi i sassolini dalle scarpe sempre in base al contenuto tematico di queste riunioni ci fu Rina che un'occasione dice dobbiamo togliere ognuno di voi si deve togliere i sassolini dalle scarpe è arrivato il momento ora io ritengo che queste conclusioni della Corte siano apodittiche proprio sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che vengono sentiti relativamente all'attentato del dottore Germana ma abbiamo anche le dichiarazioni del dottore Germana il dottore Germana viene sentito nel corso del giudizio di primo grado ora dalle dichiarazioni dei collaboratori cosa emerge che la decisione di uccidere il dottore Germana sicuramente non rispondeva all'interesse dell'associazione e quindi se non rispondeva agli interessi dell'associazione neanche a quelli connessi al piano stragista perché dicono i collaboratori questo delitto interessava solo da alcuni mandamenti della provincia di Trapani se i collaboratori mi dicono così io ritengo che la conclusione a cui giunte la Corte che qualifica l'attentato al dottore Germana come delitto eccellente è sbagliata il delitto eccellente signori giudici popolari è quello delitto che interessa a tutta cosa nostra perché il delitto che sia per i vantaggi conseguibili sia per le conseguenze c'è un delitto che interessa l'intera associazione ecco perché il delitto è eccellente non interessa un solo mandamento non interessa una sola provincia qui il collaboratore dice qua l'attentato a dottore Germana interessati solo alcuni mandamenti tra cui Mazzara del Ballo Agate Mariano sostituito da Vincenzo Sinacori quindi nonna eccellente quindi nonno un delitto se non è eccellente non può rientrare nel piano stragista quindi tu corte sbagli a individuarmi quell'attentato in cui attentato in cui partecipò Matteo Messina Denaro ma poi abbiamo le dichiarazioni del dottore Germana cosa ci dice il dottore Germana nel corso del giudizio primo grado che non aveva svolto sino a quel momento delle indagini specifiche sulla persona del Matteo Messina Denaro quindi tali da poterlo pregiudicare di conseguenza quindi se il dottore Germana mi dice questo se i collaboratori dicono che l'interesse è solo di alcuni mandamenti è chiaro che il dottore Germana non rappresentava né per Cosa Nostra né per l'imputato un sassolino che dovevano togliersi dalle scarpe perché attenzione il delitto anche se commesso per esempio il delitto il delitto anche se commesso c'è la messa a disposizione a volte la corte si sa appello di Catania dice io l'indizio lo ricavo anche dalla sola messa a disposizione del territorio per esempio Montalto viene ritenuto la corte responsabile di aver aderito al piano stragista perché Brusca ha commesso l'attentato di Ignazio Salvo ha commesso l'omicidio Ignazio Salvo ha nel territorio di competenza del mandamento di Montalto Montalto quindi ma per esempio Ignazio Salvo è un delitto eccellente l'omicidio di Ignazio Salvo risponde agli interessi dell'intera cosa nostra intera associazione ma poi un altro aspetto di non poco conto è che non dobbiamo trascurare che comunque l'attentato a Germanà si colloca a settembre del 92 cioè capite bene in un momento assai in un periodo molto successivo rispetto a quello in cui sarebbe avvenuta la deliberazione del piano stragista e poi anche successivamente alle stesse stragi di Capaci e di Via D'Amelio che comunque rappresentano le manifestazioni più drammatiche del piano stragista rispetto alla strage di Via D'Amelio rispetto alla strage di Via D'Amelio valgono le stesse considerazioni che ho fatto poc'anzi rispetto alla strage ai danni del dottore alla strage di Capaci e danni al dottore Falcone anche qui la Corte muove e fonda i responsabili dell'imputato su questo presupposto non dimostrato che l'imputato al momento della deliberazione del piano che la Corte colloca a ottobre 1991 era al vertice della provincia di Trapani sostituto del padre malato abbiamo già detto che questa presunta carica non è affatto dimostrata come invece ci vorrebbe far credere la Corte a luce di tutto quello che vi ho detto in precedenza anche perché non possiamo escludere non c'è nulla che ci porta ad affermare con certezza che quel ruolo invece non fosse svolto da Agate Mariano attenzione c'è una con riguardo ad Agate Mariano pensando a quello che vi ho detto nel corso della requisitoria il procuratore generale Agate Mariano aveva per Rina comunque per l'associazione aveva breve durata perché da lì a poco sarebbe interessato dal maxiprocesso sarebbe comunque stato tratto sarebbe stato detenuto sarebbe andato in carcere in quanto condannato ma non è così se quindi non si poteva il procuratore Gioe dice non si sarebbe potuta trasmettere l'informativa no no perché se leggete le precedenti sentenze che su questi medesimi fatti vedete invece che i giudici i giudici che si ponevano il problema della trasmissione dell'informativa rispetto agli assenti a queste riunioni famose rispetto a quelli detenuti affrontano il problema dicono in quel momento storico che siamo a fine 91 anno 92 purtroppo anche i soggetti che erano distretti al 41 bis ricevevano le informative prestavano i consensi insisto sempre anche rispetto alla strage di Vida Meglio all'assenza fisica dell'imputato nelle riunioni deliberative del piano un aspetto che nelle vostre valutazioni non dovrete dimanticare mai rispetto alla strage di Vida Meglio e all'uccisione del dottore Borsellino e degli agenti di scorta la corte cosa ci dice da un rilievo importante ad una circostanza cioè che sarebbe stato l'imputato proprio colui che avrebbe spinto cosa nostra ad uccidere il dottore Borsellino già ai tempi della ai tempi in cui il dottore Borsellino lavorava presso la procura di Marsala e cioè anno 1987 e la corte afferma perché si doveva vendicare della condanna del padre quindi fondata su dichiarazioni di falsi pentiti che si teneva non fossero gestiti correttamente dal dottore Borsellino ora in realtà vi posso dire che leggendo dichiarazioni dei collaboratori nessuno dei collaboratori racconta di un'occasione di un episodio in cui Matteo Messina Denaro avrebbe manifestato questo interesse ad uccidere il dottore Borsellino per la condanna del padre fondata su dichiarazioni di collaboratori di giustizia o su una gestione non corretta di questi collaboratori da parte del dottore Borsellino quindi questa volontà parla di questa volontà della famiglia in particolare della famiglia Matteo Messina Denaro e di Agate Mariano di uccidere di sollecitare Riina dell'uccisione del dottore Borsellino per perché proprio si lamentava con Riina dell'attività svolta dal magistrato ora questo dato questo dato che è sempre un indizio che ci offre la Corte ovvero la Corte d'Assisi Appello di Catania ovvero la conoscenza di precedenti progetti criminosi a carico dei giudici Falcone e Borsellino è un indizio e quindi la Corte dice l'esistenza di questi progetti criminosi che Cosa Nostra aveva diciamo aveva cercava di attuare ai danni al dottore Borsellino ma ha cercato di attuare ai danni al dottore Borsellino è un elemento individualizzante nei confronti dell'imputato quindi una riprova della sua adesione al piano stragista che giudici popolari vi ricordo sempre il piano stragista nel momento in cui viene deliberato dalla commissione per il dottore Borsellino e per il dottore Falcone è contenuto rinnovatorio cioè sono inclusi nel piano quindi abbiamo adesione al piano staggista che include anche il dottore Borsellino ora ma ben vedere io ritengo che la corte non offri nulla a dimostrazione del dolo della condotta concorsuale di tipo morale rispetto al diritto di strage posto e danni del dottore Borsellino perché vi dico questo perché vado a leggere le dichiarazioni di Cangemi che la corte riporta la corte li troverete nella sentenza impugnata proprio in merito a questa regressa volontà della famiglia Messina Denaro all'uccisione del dottore Borsellino cioè di eliminare il giudice Borsellino e il collaboratore cosa ci dice l'intenzione era quella di uccidere il magistrato con armi da fuoco corte e non sofisticate ciò perché Salvatore Rina ci aveva detto che non si doveva fare troppo scruscio con ciò significando che il fatto avrebbe dovuto suscitare il minor clamore possibile anche con riguardo alla qualità delle armi usate del resto non era necessario ricorre ad un più massiccio spiegamento di mezzi perché avevamo la certezza del dottore Borsellino in diverse occasioni si spostava a piedi senza scorta tale certezza derivava dal fatto che Raffaele Gamci e gli altri uomini della famiglia della noccia ricevuto l'ordine da reina avevano pedinato il giudice avevano accertato che si recava spesso da solo a comprare il giornale nelle dico non distante la sua abitazione sempre a piedi a comprare le uova in un pollaio che si trovava non distante tra l'ingrocio tra le vie che cosa emerge da queste dichiarazioni che i pregressi progetti criminosi che avrebbe diciamo avrebbe dovuto attuare Cosa Nostra non richiedevano modalità stragiste perché Cosa Nostra sa che il dottore Falcone al dottore Borsellino piace farsi la passeggiatina da solo uscire da solo senza scorta andare a comprare le uova dal 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 giornalaio quello che vi sto dicendo emerge anche dalle dichiarazioni di Sino quindi conoscenza di progetti criminosi di tentativi di progetti criminosi che non prevedevano modalità stragiste questo diciamo emerge anche dalle dichiarazioni di Sino anche dichiarazioni di Sino riportate dalla Corte e Sino rispetto al progetto di uccisione a Marina Longa dove il giudice Borsellino si recava per le vacanze estive Sino se leggete dichiarazioni cosa ci dice io ho fatto delle osservazioni l'avevo anche riferita a Rina il giudice c'erano il giudice era al giudice piaceva allontanarsi con la vespa con un agente di scorta quindi capite il giudice un agente di scorta non occorrono modalità stragiste quindi pregressa conoscenza di progetti criminosi sicuramente che non richiedevano modalità stragiste anche perché il dottore Borsellino dava l'occasione di non era solito era solito che comunque si reggava da solo fuori senza agenti di scorta quindi non modalità stragiste bensì utilizzo di armi comuni da sparo questa è la conoscenza che ha Cosa Nostra per usare proprio le parole in particolare di Cangemi non dovevamo fare scruscio perché proprio non dovevamo di suscitare il minor clamore possibile anche con riguardo alla qualità delle armi usate cosa si ricava quindi oltre diciamo a questo che vi ho detto poc'anzi cioè l'uccisore magistrato doveva venire non con modalità stragiste io vi dico se la conoscenza che l'uccisore dottore Borsellino non richiedeva modalità stragiste e allo stesso modo la conoscenza di precedenti progetti criminosi da effettuarsi con armi comuni da sparo ragionando a contrario di quello che ci dice quindi la Corsa si sa appello di Catania io devo escludere il dolo di strage ma poi vogliamo considerare quanto quando questi progetti criminosi e danni al dottore Borsellino risalgono risalgono all'anno 87 sicuramente in un periodo antecedente assai antecedente rispetto a deliberazione del piano e siamo sicuri che Matteo Messina Denaro non è il vertice della provincia c'è un'incoerenza che io colgo nelle argomentazioni della Corte la Corte dice con riferimento alla posizione di Matteo Messina Denaro divenuto reggente della provincia di Trapani solo agli inizi degli anni 90 e comunque il primo semestre 91 potrebbe essere concettualmente più corretto interpretare la deliberazione del piano stragista nella parte riguardante l'uccisione di Falcone e Borsellino più che come una conferma rinnovatoria quale una nuova adesione e ho detto poc'anzi che la deliberazione del piano ha contenuto rinnovatorio rispetto al dottore Borsellino al dottore Falcone rinnovatorio della precedente decisione di morte decretata da Cosa Nostra negli anni 80 e qui la Corte si contraddice perché la Corte quasi quasi non è neanche convinta di quello che sta dicendo e si spinge oltre mi dice è corretto concettualmente parlare rispetto alla sua posizione di nuova adesione e quindi se è nuova quelli che vengono individuati come indicativi dell'adesione del piano al piano per l'imputato ovvero i precedenti progetti criminosi ai danni del dottore Borsellino non possono consigliarsi tali se la sua è una nuova adesione l'indizio dell'adesione non si può ricavare dai precedenti progetti criminosi decretati da Cosa Nostra in precedenza la Corte entra ultimamente in contraddizione e allora forse anche lei forse prende a consapolezza dice se parlo di nuova adesione tutto quello che fino l'ho detto crolla allora dice è una questione di lana caprina determinare se l'imputato se per l'imputato il consenso prestato alla suddetta deliberazione abbia avuta natura costitutiva ex novo confirmatoria ex nunc perché era notoria in Cosa Nostra che a carico di entrambi i magistrati fin dagli anni 80 tutti cioè tutti gli affiliati sapevano della sentenza di morte decretata a Cosa Nostra ai danni dei due magistrati ora è chiaro che queste conclusioni siano palesemente contraddittorie o tu corte mi dici se l'adesione è nuova o non è nuova perché se no è nuova e tu mi dici che è concettualmente più corretto parlare rispetto all'imputato di nuova adesione ci sono contraddizioni nelle tue argomentazioni e da queste contraddizioni io colgo l'incertezza del momento in cui l'imputato ha acquisito la consapevolezza della rinnovazione da parte di Cosa Nostra dell'origine decisione di morte dei giudici Falcone e Borsellino incertezza che naturalmente si percuota a mio avviso sul sé abbia aderito alla rinnovazione delle decisioni di morte di Falcone del dottore Falcone e del dottore Borsellino altri elementi indicati dalla corte come indicativi di questa adesione al piano stragista sono gli omicidi di due esponenti di vertice della famiglia di Marsale e sono d'amico Vincenzo e Caprarotta la corte perché indica diciamo vi porta l'attenzione questi diciamo questi omicidi per ritenere che il il Matteo Messina Denaro abbia aderito al piano perché lei la corte d'assise nella sentenza impugnata sostiene che i motivi dell'uccisione di questi due soggetti è da ricondurre a un presunto rifiuto che questi soggetti avrebbero manifestato rispetto al piano si sarebbe un attimo opposti alla deliberazione e allora la corte vi porta all'attenzione delle dichiarazioni che sono quelle di le dichiarazioni di Zichitella perché Zichitella riferisce di aver l'uccisione di D'amico Vincenzo e di Caprarotta scusatemi si colloca l'1 gennaio del 1997 1992 Zichitella cosa dice io ho appreso dal congiunto D'amico Vincenzo ovvero D'amico Ghetano dal fratello che i motivi sottostanti all'uccisione di questi due erano dovuti al fatto che questi soggetti si opponeva si erano opposti all'uccisione di Borsellino nel territorio di Marsala cioè non volevano che Borsellino in sostanza dice questo si erano opposti all'uccisione del dottore Borsellino a Marsala quindi erano stati uccisi Esichitella pello ma quello che a me invece preme porre alla vostra attenzione è il fatto ma chi è questo Zichitella che ci viene a raccontare questo diciamo di questi presunti motivi oltretutto in maniera assai generica dice che li avrebbe appresi in degli incontri che avrebbe lui stesso lui avrebbe intrapreso diciamo questi incontri con il damico Gaetano scusate mi preme comunque precisarvi giusto che Zichitella è uno stigiaro quindi significa che è una fazione opposta a Cosa Nostra gli stigiari sono quelli che si ribellano a Cosa Nostra quindi diventano automaticamente nel momento che si allontanano nemici Cosa Nostra invece abbiamo D'Amico Gaetano che è un uomo d'onore quindi già questo Zichitella il D'Amico Gaetano che riceve queste confidenze da cioè l'Amico Gaetano che fa queste sue confidenze c'è un uomo d'onore fa queste confidenze a un a un a un stigiaro c'è a un suo nemico cioè già questa cosa mi deve far pensare che tutto quello che ci dice Zichitella non è credibile oltre alla genericità e di quant'altro proprio questa è questa contrapposizione che c'è tra queste due fazioni c'è tra la famiglia dei D'Amico e quella dei Zichitella e si coglie si coglie perché addirittura c'è Zichitella c'è lo zio il fratello Zichitella vengono uccisi e mandanti sono D'Amico D'Ingenzo e Caparotta quindi pensiamo a questo soggetto che ha avuto il fratello lo zio uccisi dalla famiglia D'Amico che inizia una diciamo trattativa inizia ad incontrarsi per concludere degli accordi su relativi diciamo alle loro attività dove chi doveva rifornire D'Amico avrebbero rifornito e Zichitella avrebbero dato supporto economico supporto logistico quelli avrebbero diciamo si sarebbero messi in prima a disposizione per le azioni criminali ma comunque quello che vi voglio diciamo evidenziare è la conflittualità che esiste tra queste famiglie e quindi è impensabile che ci possa essere stata una forma di collaborazione una di collaborazione e che l'uomo d'onore va a fare le sue confidenze a uno che è suo nemico oltretutto c'è un aspetto importante che lo Zichitella non sa neanche collocare esattamente quando queste confidenze del damico Gaetano sarebbero gli sarebbero state fatte il damico Gaetano muore a meno di un mese cioè viene ucciso a meno di un mese rispetto al damico Vincenzo e Caprarotta c'è 11 gennaio 1992 omicidio damico Vincenzo e Caprarotta 7 febbraio del 92 viene ucciso da amico Gaetano quindi capite bene queste trattative intraprese da Zichitella hanno breve durata cioè quello a meno di un mese da amico Gaetano viene ucciso nonostante questo questo dato indubbiamente non si può pensare che abbia scalfito la memoria del collaboratore io inizio un'attività importante la cangello e lo Zichitella non sa indicare il momento in cui avrebbe ricevuto le confidenze dal damico Gaetano inizia a dire ma non lo so 3, 4, 5 mesi dopo il 7 febbraio 1992 oltretutto 3, 4, 5 mesi c'è un periodo successivo alla data in cui il 7 febbraio 1992 in cui sarebbe stato ucciso d'amico cioè l'amico Gaetano quando avrebbe rivelato le confidenze allo Zichitella comunque era già deceduto quindi tutti questi aspetti per evidenziarvi l'inattendibilità dello Zichitella e quindi l'inconsistenza delle argomentazioni offerte dalla Corte sul punto su questo presunto mancato su questo dissenso all'uccisione di Borsellino di D'amico e Crabarrotta fondato proprio dalla Corte anche sulle dichiarazioni di Zichitella poi ci sono altri aspetti ma comunque sono ben diciamo se ne parla tanto nei motivi di appello poi abbiamo anche le dichiarazioni di Patti Antonino che sono sempre utilizzate alla Corte per sostenere che i motivi sottese all'uccisione di D'amico e Crabarrotta erano proprio da individuarsi nel rifiuto posto da quest'ultima l'uccisione del Dottore Borsellino ma in realtà Patti cosa fa? Le sue dichiarazioni non sono altro che deduzioni rispetto alle confidenze che avrebbe ricevuto dal cognato Titone Titone Antonino e non deve sfuggirvi il fatto che Patti è comunque un soggetto importante all'interno della famiglia trapanese della provincia Patti dopo l'uccisione di Vincenzo Milazzo verrà nominato capo mandamento di Alcmo quindi abbiamo un soggetto che comunque ha un diciamo un suo ha un soggetto che non è un pinco pallino mettiamola così che non sa dei motivi sottesi all'uccisione di D'Amico e Caparotta lui dice io non li so ai motivi rende delle dichiarazioni cioè le sue dichiarazioni sono delle deduzioni sulle confidenze che gli avrebbe fatto Titone Antonino invece le dichiarazioni di Patti indicano altri motivi che non vengono presi naturalmente in considerazione della Corte motivi che vi dirò di più questi motivi che ci indica Patti sono motivi che vengono individuati per questo duplice diciamo omicidio dalla sentenza del 2000 della Corte di Assise di Trapani quindi motivi che ragioni che non hanno nulla a che vedere con questo presunto rifiuto opposto dalle vittime solo si coglie la costante violazione di regole ferre di Cosa Nostra da parte del damico nella sentenza di Trapani e ce lo dice poi anche Patti che non sa nulla dei motivi non sa nulla del presunto dissenso manifestato da questi all'ucciso dal dottore Barsellino e il Patti cosa ci dice che il damico si sarebbe appropriato di un'ingente somma di denaro che sarebbe servita per il pagamento dei uomini d'onore o perché il damico intratteneva una relazione sentimentale con la vedova di Evola che il damico si teneva fosse il mandante del tentato omicidio di Patti che aveva intascato i soldi derivanti da un'estorsione fatta ai danni della calcestruzzi di Petrosino soldi che devono essere spartiti anche con la famiglia di Mazzardvallo c'è delle altre indicazioni che comunque sono anche trovano conferma nel contenuto cioè vengono recepite dai giudici della Corte di Assise di Trapani nella sentenza del 2000 proprio che hanno processo avendo ad accertamento avendo ad oggetto l'accertamento proprio di di questi omicidi io colgo però una contraddizione nelle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto sempre a quello che ci dice la Corte Assise di Trapani la Corte di Assise di Trapani cosa fa? individua come mandanti di questi omicidi caperotte d'amico Riina Agate Mariano Francesco Messina Denaro e Vincenzo Milazzo quindi Vincenzo Milazzo l'uccisore di Vincenzo Milazzo è anche l'uccisore di Vincenzo Milazzo indicato dalla Corte come elemento per litenere dimostrato l'adesione al piano stragista dell'imputato ovvero il motivo sotteso all'uccisione di Milazzo sarebbe di nuovo un dissenso qui no specificatamente all'uccisione del dottore Borsellino in genere al piano stragista ideato da Riina ora io mi chiedo come si può ritenere coerente una la motivazione della offerta ai giudici primo grado se da un lato c'è la Corte di Assise di Trapani che ci dice una sentenza acquisita al fascicolo del dibattimento ci dice che Vincenzo Milazzo è uno degli esecutori dell'omicidio di Caparotta e di D'Amico dall'altro lato invece perché vi dico questo perché non vi deve sfuggire quello che vi ho detto poc'anzi cioè che anche gli omicidi di Caparotta e D'Amico i motivi vengono individuati nel rifiuto quindi abbiamo un soggetto Vincenzo Milazzo quindi che per la Corte si è opposto al piano stragista e sarebbe stato ucciso per questo che è esecutore di altri soggetti che anche loro non avevano prestato il consenso all'uccisione del Dottore Borsini nel territorio di Marsale quindi io colgo una contraddizione quindi in queste organizzazioni della Corte Quanto vi ho evidenziato ritengo che non sia scolpito dalle argomentazioni offerte dalla Corte di Assise che dice perché la Corte di Assise si rende conto di questa frattura logico-giuridica e quindi mi dice a nulla vale obiettare che la partecipazione del Milazzo all'omicidio di Caparotte e D'Amico e il suo contributo nella realizzazione dell'espediente per trasportare le armi a Roma disvelerebbero al contra una convinta adesione al progetto stragista di Rina posto che la sfasatura temporale delle dette condotte rispetto alla sua eliminazione non in genere ha fatto un cortocircuito argomentativo a meno di voler ritenere come mafioso il calibro del Milazzo non possa mai cambiare opinione peraltro mutare delle circostanze esterne i delitti eccellenti di Rime e Falcone o che a sua volta atteggiamento agli altri sudali possa inverarsi in una reazione diversa perché dice questo la Corte perché Vincenzo Milazzo è quello che se seguiamo la ricostruzione offerta della Corte è uno che avrebbe aderito al piano stragista perché si è messo a disposizione la trasferta romana Vincenzo è colui che offre un uomo alla trasferta romana mette a disposizione Calabro Calabro che è colui che avrebbe fatto l'intercapedine nel camion di Gioan Battista Consiglio che sarebbe servito per il trasporto delle armi quindi la Corte è diciamo consapevole questo fatto cerca di rimediare perché in base al suo ragionamento se mettersi a disposizione per la trasferta romana è indicativo dell'adesione al piano stragista poi invece tu mi dici il contrario anche se la Corte non tiene conto anche del diciamo del fatto quindi proprio non tiene conto di questo fatto che l'adozione il il piano inizia ad essere attuato nell'anno 92 e comunque al momento in cui D'Amico e Craprodotto erano stati uccisi ovvero al gennaio del 92 quindi già il piano secondo le sue argomentazioni è deliberato la volontà collegiale è già perfezionata è già completamente perfezionata diciamo per a supporto di quanto la Corte ci voglia far credere in ordine a questo dissenso che avrebbe manifestato Vincenzo Milazzo e per questo dissenso Vincenzo Milazzo sarebbe stato ucciso la Corte utilizza le dichiarazioni di un certo Palmeri Armando cosa afferma Palmeri Armando in realtà che Vincenzo Milazzo solo apparentemente si manifestava disponibile ad aderire al piano stragista dice la strategia del Ni invece sarebbe stato fortemente contrario alla strategia al piano stragista ma la strategia del Ni in cosa nostra non c'è le sentenze ci dicono sempre che il dissenso deve essere espresso con la dissociazione con la collaborazione non ce n'è strategia del Ni tante volte questo problema si è affrontato abbiamo le sentenze che ce lo dicono il dissenso così sommesso non vale poi in ogni caso Armando Palmieri non ci dice neanche quando e come quando e come attenzione perché il dissenso può essere anche manifestato che poi io lo ritengo le corti non 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 danno peso quella semplice non messa a disposizione di un uomo di un'arma c'è di un luogo qui nessuno dei collaboratori Armando ci dice Palmieri solo apparentemente quindi solo apparentemente non cioè non vale solo apparentemente il dissenso espresso anche perché anche perché molte volte mi ha colpito la descrizione che hanno fatto le sentenze di Rina un soggetto osservante della rego di Cosa Nostra non mi ricordo di preciso chi fosse il collaboratore dice non è che se lui capiva che c'era qualcuno che non era d'accordo qualcuno alzava la mano lui un attimo ci avvertiva e diceva no attenzione fermiamoci che qui c'è qualcuno che non è d'accordo quindi dalle e poi c'è ci sono i giudici della corte di Assise di Catania che esaltano questa capacità che esaltano per di più la capacità di persuasione del Rina che affermano per affermazione di Cucuzza anche di altri collaboratori non era un autocrate non era un dittatore ma un elemento carismatico che con la forza e l'argomentazione con la sua personalità si faceva carico di ottenere il consenso espresso di tutti i capi dell'organizzazione e della sua iniziativa un consenso che costituiva la base del suo potere perché Rina si preoccupava e curava con la massita attenzione di non mettersi dalla parte il torto rispetto all'errego dell'organizzazione per lasciare spazio alla critica al convitto i giudici togati sanno perché già conoscono le sentenze che Rina viene descritto dalla presenza di sentenze come un soggetto democratico quindi per chi si fosse opposto comunque non manifestava apertamente il dissenso se questa era la descrizione di Rina Rina non avrebbe mai deciso l'eliminazione del soggetto che invece è sostenuto dalla corte di sentenza imbunata attenzione corte che anche lei con richiamo di queste sentenze di cui vi ho parlato parla di Rina in questi termini spesso si dice il dissenso deve essere espresso manifesto non c'è Rina che è una tocrete se c'è qualcuno d'accordo Rina con la sua capacità di persuasione convince tutti al massimo quindi nessuna eliminazione viene decretata quando c'è un attimo un po' il dissenso su qualche cosa quindi abbiamo una Rina quindi disponibile a ascoltare le voci discoltanti degli altri componenti della commissione quindi un contrasto un dato che io ritengo fondamentale che impedisce di tenere l'imputato concorrente Morano a strage di Vieta Melio le ricavo dalle dichiarazioni di Brusca rese nel corso dell'incidente probatorio che si è svolto nell'ambito del processo Borsellino Quater ora cosa fa il collaboratore ci offre una circostanza importante che io ritengo escluda ogni forma di concorso anche morale dell'imputato emerge ci racconta che il 16 luglio del 92 due giorni prima era avvenuto l'omicidio di Vincenzo Milazzo sì sì due giorni prima il giorno il giorno prima di questo il 15 luglio era stata diciamo uccisa anche la fidanzata di Vincenzo Milazzo Antonella Bonomo quindi Brusca ci racconta che il 16 luglio si reca a Palermo si reca a Palermo perché cercava aiuto per distruggere per far scomparire la macchina della della povera Antonella Bonomo e va a Palermo in compagnia di chi? dell'imputato dell'imputato di Vincenzo Sinacori va da Biondino per chiedere se lo poteva aiutare a diciamo a far sparire questa macchina e Biondino diceva no non ti posso aiutare sono sotto lavoro Biondino era insieme a Giuseppe Graviano a Carlo Greco lo concedava e gli diceva che non aveva bisogno del suo apporto perché Brusca si metteva a disposizione erano sotto lavoro quindi da queste dichiarazioni capiamo che c'era qualcuno che già era sotto lavoro quindi siamo il 16 luglio il 19 luglio si consumerà la strage di Via D'Amelio quindi due giorni prima c'è il 16 luglio l'imputato quindi va che dovrebbe essere consapevole del piano stragista dell'attuazione del piano stragista che comprende l'innovazione di morte del donato il dottore Borsellino si rega a Palermo con tutti i rischi connessi dal momento che si capisce che i soggetti erano sotto lavoro 16 19 luglio due giorni prima cioè in prossimità uno che è consapevole della che si deve si sarà attuato attuato il piano con l'uccisione del dottore Borsellino si rega due giorni prima a Palermo da questo dato io invece ricavo che l'imputato non era proprio consapevole che nei confronti del dottore Borsellino fosse stato progettato un attentato oltretutto da attuarsi con modalità e effetti devastanti al pari di quella della strage di Capaci allora la Corte per rimediare a questo episodio che a mio avviso ritengo non valga a dimostrare il concorso morale dell'imputato rispetto al ditto di strage ci dice che quello che ci dice Brusca in realtà non ha tanto importanza perché c'erano i gruppi ristretti cioè non necessariamente anzi i mandanti chi aveva deliberato il piano non era a conoscenza dell'esecuzione e infatti cosa fa? Ci ripropone le stesse argomentazioni fatte dai giudici che hanno condannato Brusca e Rina dice loro erano assenti all'esecuzione cioè loro non sapevano niente tant'è vero che Brusca è stato condannato per la strage di di Via D'Amelio però capiamo che Brusca della strage di Via D'Amelio non ne sapeva niente attenzione è diverso è diverso rispetto alla posizione dell'imputato non si possono utilizzare le medesime argomentazioni utilizzate per Rina e per Brusca per l'imputato qui non abbiamo prova che l'imputato quando l'imputato e se abbia partecipato abbia aderito al piano stragista comprendendo il rinnovato con una deliberazione rinnovativa rispetto a decisioni di morte di Falcone e Borsellino invece Brusca e Rina partecipa alle unioni partecipano è sicuro il primo problema che si pongono le corti giudici rispetto a tutti i soggetti qualora i leggete vi impegnate a leggere questo numero infinito di pagine di sentenze vedete che giudici la prima cosa che fanno ha partecipato all'unione a che titolo partecipava quella riunione qui non finora l'ho ripetuto tante volte un indizio certo per poter dire che abbia partecipato ad una riunione non c'è e non c'è neanche attenzione non vi deve non dimentichiamo non c'è neanche rispetto al ruolo rivestito manca anche rispetto alla qualifica rivestita non solo non solo questo ma poco fa vi facevo l'esempio di Montalto non si coglie alcuna è importante nelle sentenze vedete che se non è assente si è detenuto si cerca individuare il momento in cui è stata trasmessa l'informativa ha preso il consenso se non è messo a disposizione ma cosa ha fatto Matteo Messina denaro rispetto all'esecuzione delle stragi delle stragi nulla non ha messo a disposizione un uomo non ha messo a disposizione il territorio e armi all'esecuzione quindi nessuno ha messo a disposizione quindi rispetto all'esecuzione delle stragi di via da meglio e di capaci rispetto quindi all'attuazione quindi del piano e anche io vi chiedo di valutare questi diciamo queste queste mancanze non sto qui a ribadirle poi capisco che siete anche già stanchi e non voglio essere ripetitiva avete signori giudici popolari avete la fortuna di essere seguiti da magistrati di eccellenza che hanno tanta esperienza che vi aiuteranno a meglio comprendere questi passaggi che su cui ho tanto diciamo discusso che la partecipazione la partecipazione a una riunione vale anche il non dato certo cioè questa ipotesi alternative che ci offre la Corte ma anche sotto il profilo del concorso morale sotto dal punto di vista del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso la Corte non individua alcun elemento da cui ricavare con certezza il convolgimento nelle stragi dell'imputato nella fase deliberativa e nella fase esecutiva vi ripeto né uomini rispetto al compimento di stragi né armi né esplosivo cioè non emerge neanche che si sia prestato a contribuire a raccogliere l'esplosivo che è servito per queste stragi che è un esplosivo di grosse quantità come sapete quindi l'assenza di elementi che valgono a dimostrare il concorso morale dell'appellante io presidente avrei concluso ho preparato una memoria con l'aspicio che gli possesse d'aiuto riassuntiva di quello di cui vi ho parlato nel corso della discussione ho colto questi aspetti principali che secondo me non consento di ritenere la sentenza sufficientemente idonea a ritenere l'imputato responsabile della dell'adesione come reggente a un piano stragista che comprendesse le stragi che sono contestate insisto nei motivi di appello chiedo l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso i fatti e deposito la memoria le abbiamo verbalizzate le richieste qui conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di appello e deposita memoria difensiva a questo punto la corte rinvie rinvie il procedimento per eventuali repliche e per la deliberazione della sentenza all'udienza del 19 luglio 2023 presso ore intanto sempre 9.30 ore 9.30 presso l'aula costa del palazzo di giustizia di Caltanissetta avverte del rinvio tutte le parti presenti e dispone la riattivazione del video collegamento per consentire la partecipazione all'udienza dell'imputato quest'udienza è tolta buona giornata a tutti grazie 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 grazie